Dottoressa, prego. Grazie. 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 Scusate, è proprio un'attenzione nei confronti, come diceva prima anche il consigliere Valsecchi, delle fasce più deboli. Quindi era un po' questo, l'andare a pagare un canone quando oggettivamente, voglio dire, il modello ISE che presentano è realmente molto basso. Grazie. Apriamo la discussione sull'ordine del giorno, iniziando dalla lista popolare per sesto, consigliere Bino. A lei la parola. Allora, quando si presenta un ordine del giorno, lei è molto esperto, no? Io capisco che stasera il clima, una volta che viene presentato, io do la parola a un consigliere per gruppo, per esprimersi sull'ordine del giorno. Era questo il significato. Forse ho mangiato qualche parola, chiedo scusa. Quindi do la parola alla lista popolare per sesto, per esprimersi, sull'ordine del giorno presentato dal Partito Democratico e da tutta la minoranza. Prego, consigliere Bino. Scusi, Presidente, non ho capito, ma apre la discussione o le dichiarazioni di voto? Perché sono due cose diverse. Quando c'è un ordine del giorno, la procedura, secondo lei, qual è? Beh, ognuno si prese e si prenota, magari uno non ha neanche voglia di esprimersi. Quando c'è una discussione, quando c'è un ordine del giorno, il Presidente del Consiglio dà la parola a un componente per ogni gruppo, che esprime il proprio parere sull'OBG presentato. Quindi, ripeto, do la parola alla lista popolare per sesto, consigliere Bino. Grazie, Presidente. Sostengo l'ordine del giorno che abbiamo presentato e ovviamente mi riservo poi, in dichiarazione di voto, di dare il mio voto positivo. Grazie. Consigliere Bino, specifico, finita la dichiarazione che lei fa partito per partito, un consigliere si va in votazione. E' un ordine del giorno normale, io penso che da sempre è stato fatto così. Le chiedo scusa, Presidente. No, ma non ha cambiato il Presidente del Consiglio di Dio. No, 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 le chiedo scusa, ma è la prima volta che non lo ricordavo. Nessuna scusa, non è il tema, assolutamente. Allora, lista al primo posto, consigliera Di Pietro, prego. Sì, ma Presidente, allora parliamo di dichiarazione di voto, mi perdoni, perché le due cose non sono le stesse. L'intervento è una cosa, le argomentazioni che uno vuole svolgere sono una cosa, ma la dichiarazione di voto, perché l'illustrazione è già stata fatta del giorno, cioè non è mai venuto fuori prima questa cosa, mi perdoni. O sono io che sono veramente fuori dal mondo, mi perdoni Presidente, non voglio essere scortese, ma per capire, perché non si dice mai di imparare, quindi vorrei imparare e fare meglio il mio ruolo. Presidente, mi dice, cortesemente, sono Leo, a quale articolo del regolamento del Consiglio Comunale si fa il sperimento? Sì, sai cosa le dico? Se lo vado a guardare. Perché se allora, allora questo è il tema, no, consigliere Leo, se vogliamo puntecchiare, l'ordine del giorno l'abbiamo fatto da due anni e mezzo da quando sono io Presidente di questo Consiglio. Ogni volta che viene presentato un ordine del giorno, ogni volta c'è chi lo presenta, e ha un tempo di presentazione, adesso le dico anche quant'è il tempo, ha un tempo massimo di relazioni di cinque minuti, dopodiché si dà la parola ad ogni consigliere per gruppo, lista o partito, io devo pronunciare il nome del consigliere e della lista, e accordare cinque minuti di tempo. Questo è sempre stato così, non capisco perché questa sera ci sia questo vuoto mentale. Questo che le chiedo, quindi però, lei adesso non mi può fare l'interrogazione, e poi, guardi, se non sbaglio, poi la discussione si chiude con l'articolo 72 a pagina 32,123, lo andiamo a verificare e poi troverete anche quello dell'ordine del giorno, andando lì a vedere. Però io questo, guardi, che è sempre stato... Ma guardi, che non era una richiesta strumentale, tant'è vero che se il dubbio è, diciamo, di più persone, probabilmente c'è qualcosa che non è chiaro, perché se fossero... Le chiedo scusa se in qualche modo mi sono espresso in maniera poco cordiale nei suoi confronti, e che ne capisco la buona fede. Sicuramente buona fede. Vorrei, vorrei, quindi le ho chiesto scusa. Quindi, l'ordine del giorno, la procedura dell'ordine del giorno è quella che io le ho detto. C'è la procedura? Collegato, certo. Allora, sesto al primo posto, consigliera Di Pietro, prego. Sì, allora, vabbè, adesso ci siamo riguardati l'articolo. L'articolo prevede sì la discussione, ma non è... Scusi, magari interpreto erroneamente, ma non mi sembra, perché non c'è scritto letteralmente così, che non è il Presidente che dà la parola che ha chiamata ai consiglieri. Se uno vuole intervenire, interviene. Dopodiché si passa alla dichiarazione di voto. Comunque, il nostro voto è favorevole. Sì, ma lo verifico, così glielo diciamo. La prossima volta non fermo. Gruppo misto, consigliere Gianpaolo Vincelli, prego. Presidente, scusi, che cosa vuol dire che la prossima volta non ferma la discussione? Cioè, mi sembra che sia un atteggiamento un po' poco console. Stavo parlando con la dottore. E l'ha detto a microfono, scusi, e l'abbiamo sentito tutti. Ma che modo è di fare, però? La prossima volta, siccome sono state presenti... No, l'articolo non dice quello che ha detto lei. Io lo spiego, io lo spiego. L'articolo non parla, non dice il Presidente dall'ordine di discussione. Cosa che invece lei sta facendo è richiamando gruppo per gruppo. Quella è l'indicazione di voto, che non è la discussione dell'ordine del giorno. Quindi lei afferma che fino a delibera, quando viene presentato un ordine del giorno, la procedura che io sto facendo è sbagliata. E' sbagliata, certo, non è scritto così il regolamento. E io lo dico di no, per me non è così. Ma comunque, tornando al discorso precedente, non è corretto che lei, a microfono acceso al segretario comunale, dica la prossima volta non do la sospensiva. Lei dovrebbe però ricollegare il discorso. Prima è stato presentato un'emenda a me. Mi faccia finire così, glielo spiego. Non vuole che glielo spieghi, non importa. Ma di che cosa stiamo parlando? Antonio, ma di che cosa stiamo parlando? Do la parola al gruppo misto, consigliere Giampaolo Vincelli, prego. Grazie, intervengo io, Presidente. Sono un po' stupito, perché ieri sera, in conclusione di consiglio, quando si parlava di eventuali prolungamenti, mi ricordo che da quei banchi è uscita un'affermazione, caspita, una variazione del piano regolatore, non possiamo discuterla adesso. Potremmo invece parlare, e ce la caviamo in cinque minuti, con il regolamento degli orti. Io ci ero rimasto male ieri sera, ed è per quello che ho voluto fare proprio questo intervento, per cercare di capire che un regolamento che coinvolge 200 persone, le loro famiglie, un intero quartiere, caspita, una bell'info sociale pazzesca. Io ieri sera, ieri sera, ho sentito, in una breve affermazione, considerare questo regolamento come una cosa che poteva essere fatta solo come riempitivo, giusto per arrivare a conclusione sui tempi programmati per il Consiglio. Entrando invece nel merito dell'ordine del giorno, la novità introdotta dell'ISE non è per fare delle agevolazioni di pagamento attuali. Avete sbagliato, 0,31 è il pagamento dell'acqua, mentre l'affitto canone è un euro a metro quadro. Quindi un ortista in un anno paga 50 euro di affitto più l'acqua. Quindi stiamo parlando di queste cifre qua. Moltiplicate per il numero degli ortisti, la cifra che viene incassata, purtroppo non è necessaria neanche per fare la minima parte del mantenimento delle parti comuni che ci sono là negli orti. Nessun ortista ha chiesto una riduzione. L'introduzione nuova dell'ISE è un criterio e un'agevolazione futura per l'assegnazione dei prossimi orti. Quindi sicuramente, visto che questo ordine del giorno dà indicazioni e un indirizzo, che va poi a impattare su quelli che sono gli introiti come rete previste dal bilancio del Comune, sicuramente io sono contrario a questa cosa, perché non è un'esigenza che è nata dagli ortisti. Con gli ortisti stanno già nascendo invece delle altre necessità che sono più di regolamentazione di vita interna. E questa cosa sarà pienamente gestita nel momento in cui si andrà a costituire una consulta, che ribadisco sarà una consulta nuova, perché mentre alcune consulte stanno nascendo a sesto e sono trasformazione di enti già presenti, la consulta in gestione degli orti sarà di nuova istituzione. E quindi in quella sede tanti regolamenti interni di gestione di rapporti tra gli ortisti, di gestione delle parti comuni, perché in quegli orti non solo ci sono gli orti singoli, ma ci sono delle parti comuni, ci sono delle sale, biblioteca dove si fa il book crossing e anche il book sharing, ci sono organizzate feste, ci sono forni in comuni, ci sono grilli in comuni, c'è una vita sociale là. Quindi trovo molto strumentale, molto strumentale, che si venga a pensare di inserire un qualche cosa non richiesto dagli ortisti, che quella cifra la pagano volentieri e che vogliono che quei soldi vengano utilizzati e reinvestiti nella gestione di quella zona bellissima. È una zona bellissima che non solo guarda l'inceneritore, ma guarda verso il Parco Adriano. E se voi frequentaste il sabato e la domenica quegli orti, vedreste la fila di milanesi che attraversano i punticelli per venire a visitare i nostri orti, che sono un'esperienza e un esempio veramente ammirevole per la nostra città. Grazie. Movimento 5 Stelle, prego. Grazie Presidente. È libera, può essere lei, può essere la consigliere franciosi, non è che c'è un obbligo del capogruppo o meno. Prego. No, 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 infatti posso chiedere solo gentilmente quanto tempo ho? Cinque minuti? No. Grazie. Consigliere Vastecchi. Se l'emendamento non le piace, basta solo che dica che non le piace, strumentale se lo tiene per lei. Perché lei non è il depositario oggi di aver scoperto gli orti urbani, si ricordi questo. Ha fatto una descrizione degli orti urbani, stiamo qua perdendo, nonostante la mia introduzione di condivisione, lei ha fatto una descrizione di quegli orti come se fosse l'ombenico del mondo. ridicola, è chiaro? È stato ridicolo. Glielo dico, lei è stato ridicolo, non gli orti, lei, nella sua descrizione. Agli ortisti, certo, che meritano rispesso proprio, non essere presi in giro da lei, con queste parole. Sembra che lei abbia scoperto gli orti urbani se ne sia impossessato per farsi uno sport. Questo ha dato l'impressione politicamente. È arrivato il consigliere Vastecchi e adesso abbiamo scoperto gli orti urbani. A parte che ha anche sbagliato nella sua cosa, perché quando adesso, dal 2011, quindi meno Frosopopè, abbia rispetto per chi ha una memoria storica. Dal 2011 avevano bisogno di essere cambiati, ignora forse che dopo il 2011 è stato ricambiato il regolamento. Quindi prima di fare gli spot, si informi quantomeno, evita brutte figure. Evita brutte figure. E lei sa quanto sono sempre stato rispettoso delle opinioni di chiunque in questa sera. Però che vengano presi in giro. Gli ortisti o gente, in questa maniera, sfruttati in questa maniera, per chi sa quale spot, non riesco a comprenderlo. Il senso di quest'ordine del giorno, se non piace, basta dire, non siamo d'accordo con la linea, non mi venga a parlare di economia. L'ha detto lei. Quanti ISE ci saranno? Non hanno chiesto loro. Voleva essere un atteggiamento di favore e di condivisione. Quanti ISE ci saranno sotto i 2.000, 4.000 euro? Sono tutti gli assegnatari di orti? Tutti e 200? Sono tutti e 200? Facciamo una voragine nel buco di bilancio che c'è già? Andiamo in distesto se non paghiamo gli orti urbani? Perché tutti e 200 non pagano, non copriamo i costi, non facciamo niente? O saranno solo una minima parte? O una parte non totale di quelli che si assegneranno, che appartengono a quegli orti? C'è una modularità nel pagamento. Io stesso ho proposto all'assessore perché vi eravate dimenticati di mettere addirittura l'adeguamento ISTAT nelle tariffe. Perché normalmente quando si fanno le tariffe si prevede anche l'adeguamento previsto per legge, che è lo 0,X all'anno, però è previsto per legge. Pensi, quest'ordine del giorno però voleva andare in direzione non strumentale, non si permessa mai di dirlo strumentale, altrimenti io non lo condividevo fosse stato strumentale. E io parlo per me. Voleva essere un atto di cortesia verso chi purtroppo è più sfortunato. E' chiaro? E' chiaro? Quindi noi oggi politicamente si prende la responsabilità, ma nemmeno grossa. Si prende, enuncia il suo voto, noi vogliamo far pagare tutti alla stessa maniera. Ci sta, è una scelta politica. Ma non venga a fare né spot elettorali, non faccia né spot elettorali a suo uso e consumo, con le sue consulte e tutto il resto, come ha fatto anche sullo sport, e nemmeno accusi di strumentalizzazione l'opposizione, perché ci siamo andati da fare, stasera, a scriverlo a mano, non certo per perdere tempo e fa perdere tempo a chi è interessato magari, a un'altra delibera e un altro problema, che sicuramente ha pari valenza rispetto agli orti urbani. Chiaro? Quindi si coltivi pure il suo orto di voti che si vuole procacciare, di voti che si vuole procacciare. Sta facendo la stessa cosa di chi ha cambiato il regolamento tre volte. Ed era proprio l'ufficio che avevo messo all'inizio, l'incipit del mio intervento, sperando che si trovasse una soluzione di equilibrio in questa città. Impari prima la storia di questa città e poi ti permetta di criticare l'operato degli altri. E' anche un insegnamento biblico, visto il tempo cattolico a cui ci tricidiamo. Grazie. Grazie a lei, Consiglio di Cristo. Lista di Stefano Sindaco, Consigliere Attanasio. Sì, grazie, Presidente. Quanto nervosismo stasera, un po' di calma e recortesia. Siamo un po' nervosissimi. Ma di cosa stiamo parlando stasera? Noi stiamo solamente approvando una modifica di regolamento per approvare le migliorie. Non capisco questo nervosismo. caro Consigliere di Cristo, non capisco. Si sta parlando di un canone al massimo di 50 euro all'anno. Non vedo questa gravità. Ma stiamo scherzando. Poi sono soldi che noi andiamo a reinvestire nelle migliorie degli orti stessi. Ma di cosa stiamo parlando? Ma dormite un po' di notte e non pensate di venire qui al Consiglio Comunale a fare sempre escruzionismo su tutto. Grazie, Presidente. Restinto, ma di canto. Via. Ma stiamo scherzando. Identità civica, Consigliera Iosa. Grazie, Presidente. Come lista di identità civica facciamo l'intervento del Consigliere Valsecchi e quindi il nostro voto è negativo. Lega Nord. Presidente, grazie. Anche noi voteremo contro. Forza Italia. Grazie, Presidente. Respingo anch'io. Partito Democratico. La parola, Consigliera Perego, prego. Grazie, Presidente. Ma ovviamente il nostro voto è favorevole perché siamo tra i consiglieri firmatari di questo emendamento le cui ragioni, cioè il perché appunto è stato da noi formulato e proposto, sono già state illustrate dalla collega Vicepresidente Pastorino. Mi permesso solo di rispondere al collega Valsecchi, nel senso che credo non sia davvero opportuno utilizzare quello che è stato detto ieri sera, proprio in presenza di cittadini che ieri sera non c'erano e quindi non sanno benissimo, non sanno assolutamente cosa è stato detto, creando una contrapposizione tra due delibere, entrambe importanti. L'ha detto lei, una in pasta su 200 cittadini e il fatto che noi questa sera ci abbiamo speso del tempo e abbiamo fatto delle proposte significa che riteniamo importante questa delibera. Dall'altra parte c'era comunque una variazione di FIGC, il governo del territorio, con tutta una serie di tecnicismi che richiedevano una serie di spiegazioni, oltretutto queste spiegazioni non erano state date rispetto alle osservazioni in commissione consigliare, quindi richiedeva un altro tempo, per cui il consigliere Valsecchi formalmente avrebbe dovuto pensarci prima di strumentalizzare la discussione di ieri sera e l'intervento di ieri sera. Rispetto all'importanza di questa delibera, consigliere Valsecchi mi viene da dire cosa dice allora al suo collega Assanasi, ho visto che lei la ritiene giustamente così importante, e il suo collega Assanasi invece dice ma sì, stiamo solamente votando una modifica del regolamento, mettetevi d'accordo, o è una delibera importante o è qualcosa che sì, solamente dobbiamo fare. Presidente, mi rivolgo a lei però chiedendole di ricordare ad alcuni consiglieri, colleghi di maggioranza che siamo in un luogo istituzionale, siamo nella sede del Consiglio Comunale Cittadino, non siamo in un'osteria per cui alcuni toni, alcune espressioni veramente non sono consone. Mi appello al suo ruolo di garante appunto delle istituzioni. E da ultimo ricordo a lei come Presidente, ma in realtà più che come Presidente, come consigliere, a chi prima lamentava la necessità di avere gli emendamenti prima per consentire di leggerli e prepararli, che forse da quella parte siete gli ultimi a poter lamentare tempi non rispettati e possibilità da dare agli altri per studiare, prepararsi e decidere con piena contezza il voto da dare, visto quello che avremo da dire a proposito della delibera successiva e della disponibilità che questa amministrazione non ha dimostrato. Grazie, Consigliere Aperego. Sesto nel cuore, Consigliere Molteni. Grazie, Presidente. Allora, personalmente ritengo che una cifra così irrisoria, tutto sommato, si parla di circa una cinquantina di euro al singolo, non sta a me magari giudicare, io non faccio i conti in tasca a nessuno, però può incidere veramente relativamente. L'insieme di tutto invece può permettere a chi gestisce tutta la partita degli orti di apportare tutte quelle migliorie, quegli investimenti che possono essere sicuramente utili. Per cui personalmente non ritengo quest'ordine del giorno consono e il nostro voto, il mio, sarà contrario. Anch'io faccio miele parole della Consigliera Aperego sul rispetto di tutte le persone, da ambo le parti. Presidente, quello che si diceva, siccome sembra che i scalmanati o gli irrispettosi siano solo da una parte, abbiamo assistito a commenti fuori scena, anche ieri sera veramente poco piacevoli, per cui quando chiedo rispetto anch'io lo richiedo, faccio miele questa cosa. In maniera molto serena, Presidente, non è un appunto a lei, era solo per ricalcare e rispondere. Ringrazio, grazie. Io ringrazio lei, faccio miele parole della Consigliera Aperego, faccio miele parole sue, parole che del resto ho utilizzato anche ieri sera durante il Consiglio Comunale. Ricordiamoci tutti, siamo in un'aula istituzionale. Se qualcosa è andato oltre, va bene, sono i giochi che a volte la politica ti porta un pochettino fuori, ritorniamo un po' a usare dei metodi e dei toni un po' diversi. Procediamo adesso alla votazione dell'ordine del giorno, chiedo scusa. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Adesso verifichiamo perché la prima votazione normalmente ha dei problemi, vediamo un attimo. La torta c'è? È sbagliato. Allora, presenti 22, favorevoli 8, contrario 13, astenuti 1, no perché dice... Ah, quindi è contrario. Quindi, contrario 14, favorevoli 8. 8. Quindi l'ordine del giorno non è stato approvato. Procediamo adesso alla dichiarazione del voto della delibera. Lista popolare per sesto, consigliere Vino. Sì, grazie Presidente, il nostro voto è favorevole. Sesto al primo posto, consigliere Di Pietro. Consigliere, avete sempre cinque minuti, eh? Se le volete utilizzare. Prego. Grazie, Presidente. Allora, pur riconoscendo ovviamente la validità del regolamento e comunque di quello che va a regolamentare, ecco, perché sugli orti, si sono già estressi i miei colleghi consiglieri, riconosco che ha sicuramente un ampio valore sociale, quindi nulla da dire sulla bontà, però il regolamento contiene richiamo alla consulta degli ortisti e per coerenza con il voto che abbiamo espresso quando si è trattato di affrontare il regolamento delle consulte, ci asteniamo. MoVimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Ho saltato, gli do la parola dopo, prego. Grazie, Presidente. Guardi, facciamo così tanta strumentalizzazione che siamo favorevoli alla delibera. Questo è giusto per rispondere a chi ci accusa di strumentalizzazione, perché siamo coerenti con quello che diciamo. E non usiamo nemmeno i cinque minuti per non rubare tempo alle delibere dopo. Così chi ci accusa di questo ci pensi. Grazie. Grazie a lei. Gruppo misto, consigliere Vincelli. Grazie a chi? Grazie, Presidente. La discussione è stata ampia. Sono state chiarite alcune cose, sono state dette delle imprecisioni, delle accuse fatte nei miei confronti. Forse sono state fatte da persone che non sanno, che sono ortista. Ho cominciato nel 2011 e gli orti della bergamella li ho contribuito con altre 100 persone a costruirli fisicamente e sono nati nel 2012. Quindi ci si poteva risparmiare certi attacchi nei miei confronti, perché se sostengo certe delibere, certe posizioni, è perché magari sono vissute veramente con grande passione e c'è attenzione alle persone che vivono e condividono quelle passioni e non certo secondi fini come quelli dimostrati, secondo me, anche col comportamento in questa sala. Il nostro voto è favorevole. Grazie. Partito Democratico, consigliera Perego. Grazie, Presidente. Allora, rispetto a questa delibera noi ci atterremo perché riteniamo che sicuramente la delibera sia importante. Ci sono degli aspetti però su cui avremmo preferito maggiore chiarezza. Questo ad esempio non ci convince l'eliminazione del comitato di gestione, il non coinvolgimento di tutta una parte importante come le guardie ecologiche volentarie e la creazione di una nuova consulta che però a oggi non c'è e quindi questo vuoto non ci convince per cui noi rispetto alla delibera ci asserremo. Silenzio in aula per cortesia. Sesto nel cuore consigliere Molteni. Grazie, Presidente. Il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Abbiamo terminato la dichiarazione di voto. Passiamo alla votazione della delibera. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti 5. Presenti 22. Presenti 22. Quindi la delibera è approvata. Votiamo adesso per l'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 22, favorevoli 17, contrari nessuno, astenuti 5. E passata l'immediata eseguibilità. Passiamo ora al punto 29 dell'ordine del giorno. Costituzione, fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi welfare cittadini. Andiamo come relatrice la consigliera Ercoli. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. Allora, buonasera a tutti innanzitutto. Il giorno 11 aprile è stato l'ultimo in cui in serie di commissione consigliare abbiamo condiviso gli ultimi aspetti relativi all'istituzione di una fondazione che dà uno spiraglio di luce diciamo all'amministrazione in merito alla gestione appunto dei due nidi. In merito alla gestione dei due nidi. Fondazione è infatti il punto d'incontro tra le necessità dei nostri cittadini e le possibilità che appunto ha questa amministrazione banalmente economica possiamo dire. Si tratta infatti di una fondazione di partecipazione che non solo darà la possibilità in realtà agli agili nido boccacce tonale di ripartire a dei costi sostenibili da parte dell'amministrazione bensì di poter da un lato ampliare il corpo operante inserendo una psicopedagogista e una coordinatrice e dall'altro migliorare l'interno welfare della città. Di fatto grazie a fondazione si potranno gestire infatti anche i servizi socioeducativi rivolti alla fascia 018, i servizi socioeducativi assistenziali rivolti ai disabili, anziani, minori e adulti in difficoltà, i servizi socioculturali. Vero è che la gestione diretta è sempre garantito un servizio eccellente e noto a tutti. Ma è vero anche che in primis la scelta di fondazione non è casuale, frutto infatti dalla ricerca di uno strumento che sia appunto l'incontro tra l'abbattimento dei costi e il controllo praticamente diretto sul corretto e il buon funzionamento di tutta la macchina operante. In secondis la nostra alternativa ha come obiettivo la prospettiva dell'ingresso dei nidi nel progetto anche futuro di una città della salute ad esempio. È normale, io dico, che il cambiamento in qualsiasi aspetto della vita possa spaventare, perché di solito l'essere umano, l'uomo in generale non cambia dall'oggi al domani, quindi ci rendiamo conto che comunque lo stacco ci sia, perché l'essere umano comunque tende in ogni nuovo regime, in ogni nuovo momento, la continuazione di ciò che veniva prima. E questo è giusto. Però quello che vogliamo dire stasera infatti è che questo è garantito, ma l'assenza totale di cambiamento sappiamo che comunque va a favorire la malattia, perché alla fine il cambiamento è la legge dell'esistenza stessa, è la condizione della vita. Quindi siamo consapevoli del fatto che la scelta sia nuova al mondo sospese, ma ci tengo a ricordare e sottolineare che il modello che ci ha estirato a questo tipo di percorso è quello modenese, esistente da anni e che può testimoniare comunque dei risultati ottimi sia a livello economico che qualitativo. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Do la parola all'assessore Pizzocchera. Grazie. Grazie Presidente. Bene, dopo numerosi incontri anche in commissioni siamo arrivati in Consiglio Comunale. Prenderei 5 minuti per presentare quello che è il progetto, il pensiero che questa amministrazione ha per un percorso di passaggio dal welfare state verso un welfare nuovo, diverso. Prima facciamo un piccolo incipit di contesto. Da dove parte il nostro pensiero? L'Italia, come altri paesi, vive in una duplice pressione. Da una parte vincoli di bilancio e dall'altra parte mutamenti sociali. Le amministrazioni locali sono chiamate al contenimento della spesa e alla riduzione anche del personale della pubblica amministrazione. Questo avviene da anni, non certo da quest'anno o da pochi mesi. I mutamenti sociali è un progressivo cambiamento demografico del nostro paese che dagli anni Sessanta ad oggi e in previsione anche nel futuro avrà dei cambiamenti importanti sulla composizione demografica del nostro paese. Questa è la base per cui possiamo dire che è necessario, anche per Sesso San Giovanni, iniziare a pensare in modo nuovo i servizi sociali erogati. Perché diciamo appunto che il welfare state è in crisi? Questo ormai è un pensiero che alcuni di noi hanno da anni, molti non lo hanno ammesso e continuano a non affermare che questo sia reale. Diciamo che nel 1992 sono cambiate molte cose, molte cose non solo per l'Italia ma per tutti i paesi che hanno creduto in un'Europa. L'Europa ovviamente chiede determinate condizioni per poter pensare non più semplicemente alla stabilità di un'economia interna ma a pensare in termini più ampi. Quindi il contenimento della spesa nazionale dovrebbe essere in linea con le direttive proprio sul pareggio di bilancio. E qui sono iniziate le prime difficoltà, se vogliamo, per gli enti locali. Perché? Perché le erogazioni da parte dei finanziamenti da parte dello Stato sono iniziate a diminuire. Però lo Stato non ha modificato l'assetto di erogazione del servizio e quindi l'ente locale continua a essere colui che deve erogare tali servizi, senza però avere più tutte quelle risorte che precedentemente c'erano. Quindi in questo contesto, dagli anni 90 in avanti, avremmo dovuto avere in mente che cosa l'ente locale dovrebbe essere, quale ruolo dovrebbe avere l'ente locale? Un'azienda che fornisca servizi sociali oppure un ente che supervisiona e pianifica questi servizi? E' arrivato il momento anche per Sesto San Giovanni di ripensare al suo ruolo di governance oppure al suo ruolo di governamento. E questo la pubblica amministrazione ha il compito di trovare una via, perché non è semplice. Governance, certo, alcuni enti in questi anni hanno abbracciato questa idea di diventare governance e quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato ad externalizzare i servizi. Anche Sesto San Giovanni, negli anni 90, verso la fine degli anni 90, proprio perché determinati servizi sociali erano particolarmente onerosi, come ad esempio la comunità minori, è stata esternalizzata e così via attraverso cosa? Attraverso gli appalti, appalti di servizio. Ecco, io penso che ciascuno di noi debba iniziare a riflessere anche su questa modalità, che sicuramente da una parte può essere semplicistica, se vogliamo, però crea anche tutta una serie di boomerang, di boomerang sul servizio, di boomerang sulla messa a sistema di determinati servizi, che invece potrebbero armonizzarsi tra loro e quindi efficientarsi tra loro. Quindi per questo noi pensiamo che forse sia giusto guardare ad una progettualità organica, quindi vedere determinati bisogni del cittadino in modo organico e non spezzettati tra loro in tanti bandi che non si parlano. Quindi implementare una programmazione strategica e non solo tassica, questo è sicuramente impegnativo e richiede una competenza tecnica, sia dal punto di vista dei servizi, sia dal punto di vista di ascolto dei bisogni del territorio. Ecco che quindi anche la bibliografia ci dice che è meglio prediligere strumenti duttili, che si adattino al cambiamento. Alcuni enti hanno quindi scelto le aziende speciali. Ecco noi abbiamo incontrato in questi mesi esempi di fondazioni di partecipazione, come strada per poter armonizzare, per poter rendere armonico, per poter rendere organico una serie di servizi. L'approccio multiprospettico è l'approccio che oggi, nel 2019, è necessario avere un po' in tutti gli ambiti, quindi non solo nell'ambito dell'azienda privata, non solo nell'ambito del commercio, non solo nell'ambito del marketing, ma è importante averlo anche nell'ambito più strettamente legato ai bisogni del cittadino. Per quel che mi riguarda, chiaramente, è l'ambito sociale. Dove l'ente pubblico è importante che supervisioni e pianifichi i servizi, che non perda mai il controllo di questi servizi. È vero che è possibile farlo anche attraverso lo strumento dell'appalto di servizio, ma è molto complicato. È sicuramente quasi impossibile controllarne il metodo e controllarne proprio la progettualità quotidiana dello svolgimento di quel servizio. Innovare. Innovare per un ente pubblico diventa sempre più imprescindibile, proprio perché non riceviamo più tutti quei finanziamenti che negli anni 60 hanno caratterizzato il welfare state negli anni 60 e negli anni 80, fino anche, ci spingiamo, agli anni 90, ma poi si sono interrotti. Ho guardato proprio in questi giorni i bilanci dal 2005 ad oggi. Devo dire che i trasferimenti sono pressoché evaporati per quello che riguarda il sostegno dei servizi educativi e in buona parte anche il sostegno dei servizi sociali. Per lo meno non sono minimamente vicini a quelli che di fatto risultano essere i bisogni dei cittadini. Quindi, come fare per poter mettere a sistema dei servizi per poter rispondere in modo collegato ai bisogni dei cittadini? Attuare è sicuramente un approccio che genera reciproche sinergie tra i servizi, gli operatori e gli utenti. Io trovo abbastanza difficile poter operare ed attuare questo approccio multiprospettico utilizzando essenzialmente l'appalto di servizio, proprio perché l'appalto di servizio, sendo singolo, vai a suddividere i bisogni dei cittadini, rischiando di non riuscire a collegarli tra loro. Abbiamo visto un esempio molto concreto che è stato un tavolo di discussione in questi mesi, in questo ultimo anno e mezzo, l'aver diviso i servizi educativi per le disabilità rispetto, quindi gli H nelle scuole per intenderci, rispetto ai centri ricreativi estivi. Ecco, questo creare dei pacchetti separati in realtà non agevola. Sicuramente risponde in modo magari più anche efficace a ciò che possono richiedere determinati regolamenti nazionali, però poi nel concreto rispetto al bisogno locale e del cittadino stesso, questo non avviene. Ecco perché noi abbiamo pensato alla fondazione di partecipazione, proprio perché nella fondazione di partecipazione il fondatore originario tiene le fila in modo importante di quelli che possono essere i bisogni e i servizi erogati, anche diversi tra loro, ma che all'interno della fondazione trovano un sistema organico che li possa organizzare e anche mettere in connessione tra loro. Un modello innovativo e generativo, quindi, la fondazione di partecipazione, non sono io a dirlo, ma sono notai come il notaio Bellezza ed altri notai che hanno fatto la storia del concetto di fondazione di partecipazione e risiede soprattutto nel controllo analogo questa grande importanza data dal fondatore originario che partecipa, non solo nel controllo amministrativo della fondazione, ma soprattutto nella programmazione del welfare, anche all'erogazione di una parte di questi servizi. Non significa che questo debba essere fatto, ma è possibile farlo e quindi questo è il grande vantaggio. I servizi vengono affidati in via diretta dall'ente fondatore e dai fondatori aderenti. Noi vediamo infatti anche nella parere dei revisori, che appunto è arrivato qualche giorno fa, dice proprio che al di là del fatto che oggi andiamo a deliberare lo statuto della fondazione, non entriamo nel nel merito dei contratti di servizio, nel merito degli servizi specifici che andremo a derogare, ma proprio loro ci sottolineano quanto sia importante che sia proprio il Consiglio Comunale, quindi il fondatore originario a poi affidare i singoli servizi e anche andare a costruire il contratto di servizio. La sostenibilità. La sostenibilità è sicuramente uno degli elementi fondamentali nella ricerca da parte degli enti locale, di nuove modalità per soddisfare al massimo i bisogni del cittadino, facendo i conti con le casse dell'ente locale. Rispetto all'appalto di servizio, ad esempio, la fondazione di partecipazione, in particolar modo il modello che abbiamo individuato non duplica determinate funzioni, funzioni amministrative, ad esempio, funzioni direttive. Sicuramente non le duplica per ogni singolo servizio, proprio perché consente al fondatore originario, o ai fondatori aderenti, di poter prestare quel genere di prestazione di cui spesso l'ente locale è ricco. Gli uffici hanno dei direttori che fino a ieri si occupavano della gestione di un determinato servizio e che quindi non diventa complessa e complicata la parte amministrativa di questo servizio. Sicuramente consente la stabilità del personale all'interno delle varie appalti. In realtà noi vediamo questi educatori, prendo ad esempio il supporti ASSA o ad esempio anche il personale delle aziende che erogano servizio della mensa, ciclicamente ogni 3, 4, 5 anni subiscono delle grosse e profonde trasformazioni. Perché? Perché è come se cambiassero azienda senza nemmeno tra l'altro sceglierla come invece possono fare tutti i lavoratori, voglio dire normalmente, subiscono il subentro di una nuova azienda con una diversa governance, con una diversa logica. Ecco, in questo caso invece Fondazione consentirebbe proprio ai lavoratori di poter avere una stabilità personale. Il nostro documento e lo statuto che andiamo a presentare oggi prevede una assunzione per via di resta del personale educativo. L'altro elemento è il contratto nazionale che fondazione, pur passando da selezione pubblica come vuole la norma, può adottare il contratto privato che consente quindi un minor costo laddove si vanno a fare delle sostituzioni, proprio perché intervengono INSS e INAIL. Welfare generativo, infatti, così diciamo da un po' di tempo, pur non sempre viene compreso questo tema. Perché è quindi generativo? In particolar modo perché Fondazione di partecipazione prevede fondatori come enti pubblici nel nostro statuto, perché così abbiamo inteso, ma consente di poter partecipare alle progettualità e quindi rispondere ai bisogni del territorio anche partecipanti istituzionali di tipo del privato sociale oppure dei sostenitori, che anche possono mettere a servizio come fondo come fondo di gestione, non per forza una cifra come partecipanti istituzionali, ma non di dotazione, questa è la differenza fondamentale, denti pubblici, fondo di dotazione e fondo di gestione, mentre i partecipanti istituzionali, che possono essere anche privato sociale, proprio per non escludere quella ricchezza di competenze e di studio di quello che è il substrato sociale proveniente dal privato sociale, può partecipare come fondo di gestione. I sostenitori anche con prestazioni professionali al posto del fondo di gestione. Questo dà l'opportunità proprio di creare anche dei servizi anello tra i servizi core centrali erogati dal lente locale, che li può anche erogare attraverso fondazione o attraverso altre parti, oppure lui stesso direttamente, ma fondazione potrebbe sviluppare dei servizi di collegamento che possano accompagnare il cittadino attraverso il proprio percorso di mutamento o di trasformazione. In particolar modo se pensiamo all'anziano piuttosto che al disabile, se pensiamo ad un dopo di noi o se pensiamo ad un servizio di residenzialità per l'anziano. Infatti, il target a cui noi vorremmo aprire questa fondazione di partecipazione, senza chiuderla in statuto, poi chiaramente sarà un bisogno reale e concreto della città a determinare e a definire quali servizi fondazione può essere in grado di gestire oppure no. Ma noi non vogliamo precludere i cittadini da questa opportunità, quindi aprirla ai minori con servizi all'infanzia, servizi ricreativi, servizi educativi in genere. Gli anziani, come progetti di prevenzione della degenerazione neurologica, abbiamo partecipato proprio pochi mesi fa ad un bando regionale in collaborazione con una cooperativa specializzata proprio in questo genere di accompagnamento dell'anziano o del disabile sensoriale. Disabili in genere, e quindi possiamo portare come esempi supporti ASCA, che qui in modo semplificativo chiamo in questo modo, ma comunque supporti educativi per le disabilità, il CSE o centri ricreativi o laboratori educativi, in particolar modo per soggetti disabili o adulti in genere. Quando parliamo di sostenibilità, farei un piccolo focus su questo termine, perché è un termine fondamentale, fondamentale infatti racchiuso all'interno del parere dei revisori, che esprime appunto parere positivo, ma lo sottolinea in modo fondamentale perché possa esprimere una diversa modalità, perché fondazione possa esprimere una diversa modalità di gestione dei suddetti servizi al fine di migliorare efficienza, efficacia ed economicità degli stessi. Quindi è sicuramente un elemento che sta alla base della richiesta di una fondazione di partecipazione per questa città. E quindi questa sostenibilità viene sicuramente da un contratto di lavoro più flettibile, più duttile rispetto al contratto di lavoro del pubblico rimpiego e della pubblica amministrazione. Ma anche una stabilità e quindi, a differenza di quello che si potrebbe pensare, quando noi andiamo ad affidare un servizio in affalto, l'azienda comunque non porta con sé i suoi lavoratori storici, bensì viene a prendere, ad accogliere i lavoratori del territorio che passano di totanni in totanni nelle varie aziende gestori. Ma se è un bene questo, assolutamente è un bene per quanto riguarda l'occupazione, destabilizza molto, destabilizza spesso, l'abbiamo visto a luglio, abbiamo avuto il subentro di una ditta, l'ennesimo subentro di una ditta per questo lungo affalto della mensa e per l'ennesima volta le lavoratrici hanno subito comunque un cambiamento che alla lunga logora, per cui ogni elemento che è differente rispetto a quello che è stato due anni prima, fa emergere una preoccupazione nelle lavoratrici e nei lavoratori. Quindi, e questo è dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista del servizio invece ci garantisce una continuità del metodo, proprio perché dà la stabilità della continuità del tipo di erogazione del servizio. Il controllo analogo dà l'imprinting che l'ente, che il fondatore dà al servizio, laddove il fondatore ha un know-how importante, dare quindi un imprinting importante, laddove il fondatore non ha un know-how importante, probabilmente ci saranno dei partecipanti esterni che lo potranno dare perché la fondazione di partecipazione lo consente. Un minor costo, sicuramente questo l'ho già ampiamente detto, la razionalizzazione degli appalti, quindi questo non significa che l'ente comunale non farà più appalti, assolutamente no, però in alcuni servizi particolarmente che tocca fragilità è possibile iniziare a pensare ad una programmazione organica. La rete, la partecipazione di soggetti del territorio, sì perché la fondazione di partecipazione non lo esclude, come invece un'azienda consortile lo potrebbe escludere, come un appalto di servizio esclude che soggetti del territorio, associazioni del territorio, gruppi anche di esperti del territorio che si riuniscono in un progetto o anche in una sperimentazione, è possibile mettersi in rete. Quali sono le prospettive di fondazione? Nell'anno in corso, come abbiamo detto, la necessità di aprire sette nidi al mese di settembre ci impone di ragionare in modo nuovo di organizzare i nostri nidi, l'appalto di servizio avrebbe snaturato quello che è la storia del metodo e del modello sestese, ma è anche vero che la situazione attuale dei nostri nidi e del personale, del rapporto tra il personale a tempo indeterminato e del personale a tempo determinato non facilita la messa in atto del modello. Il metodo sì, perché le nostre educatrici vengono formate da anni o chi da pochi anni, perché magari arrivate da poco, però vengono formate dalla nostra equip e dai formatori a cui la nostra equip si affida. Quindi il metodo c'è sempre, il modello no, perché il modello richiede determinate condizioni, condizioni che noi intendiamo ricostituire all'interno dei sette nidi. Per questo abbiamo riflettuto e cercato una strada e una via innovativa che ci consentisse di mantenere proprio questo connotato specifico della città di Sesto San Giovanni. Negli anni successivi, quindi a fine giugno 2020 e 2021, possiamo pensare, possiamo progettare, perché anche altri servizi possano essere gestiti attraverso fondazione, i supporti educativi per le disabilità all'interno delle scuole e i centri ricreativi e studi. Vediamo quindi l'organigramma che abbiamo pensato per l'assetto di fondazione da qui al 2020. Quindi un'amministrazione che tiene le redini di fondazione, gli uffici amministrativi e il coordinamento educativo, che come si occupano oggi dei sette nidi, si occuperanno a settembre dei cinque nidi a gestione diretta e dei due nidi che verranno gestiti attraverso il personale di fondazione, personale di fondazione che verrà formato, che verrà seguito, che verrà coordinato esattamente dal coordinamento educativo che oggi si occupa dei sette nidi. I due nidi, come ha detto la consigliera Ercoli, si doteranno di una coordinatrice che entrerà in equip con le altre coordinatrici e una psicopedagogista che anch'essa entrerà in equip. Entrerà in equip queste due figure ovviamente per riferimento ai due nidi che verranno gestiti da fondazione. Quindi l'aspetto futuro dei nostri nidi, come lo vediamo oggi, sono 5 a 2. Questa scelta si è attuata per preservare il modello e il metodo educativo, per un minor uso, un minor utilizzo, un minor accesso ai tempi determinati che oggi sui sette nidi vengono utilizzati e non vorremmo utilizzare ulteriormente nel tempo sui cinque nidi, perché i cinque nidi che risperanno appunto a gestione diretta vorremmo venissero gestiti da personale interno del comune a tempo indeterminato. Il principio della stabilità educativa è data proprio dall'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo di fondazione e della crescita formativa di questo personale aderendo perfettamente al modello e al metodo dei nostri nidi. Concludo i prossimi passi. Oggi, questa sera, andiamo a presentare lo statuto della fondazione di partecipazione e a deliberare la sua nascita, ma la scelta e il percorso di affidamento dei due nidi avverrà con atto successivo e con contratto di servizio, che come appunto viene anche sottolineato dai revisori, passerà per consiglio comunale, e la selezione del personale, una selezione personale che deve seguire la normativa pubblica. e quindi poi nei prossimi anni supporti H, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che qui dobbiamo ancora progettare, abbiamo il tempo, il tempo per progettare, per capire come, quanto e quando affidare questo servizio, come e quando andare a sviluppare un contratto di servizio su questo servizio, capire se ci sono altri operatori a noi vicini interessati a svolgere insieme a noi questo genere di servizio così delicato e che non può essere demandato oltre. Noi abbiamo una richiesta da parte della città, una richiesta importante, a cui noi non riusciamo ad attendere con i fondi ad oggi disponibili. I centri ricreativi e stivi saranno una buona opportunità questa, come anche il pre-post-scuola che non ho inserito, anche qui si può intavolare una discussione per capire se è opportuno legare questi servizi ad un metodo, ad un modello educativo, perché di questo parliamo. Fondazione ci consente di sviluppare un modello e un metodo educativo che può essere traslato anche su altri servizi educativi, cosa che i bandi e gli appalti non ce lo consentono. Fondazione ci può anche consentire di scaricare a terra il metodo. Ad un interessante incontro, a cui sono stata invitata dalla cittadinanza qualche venerdì fa, la psicopedagogista, accanto a me, ex dipendente comunale, ha proprio detto questa cosa. Dove abbiamo mancato a testo non è nello sviluppo di un metodo forte, perché ce lo abbiamo, lo abbiamo e tutti noi lo riconosciamo, ma non lo abbiamo scaricato a terra, non l'abbiamo fatto diventare metodo e modello riconosciuto, non l'abbiamo certificato mai, non possiamo esportarlo. Ecco, forse Fondazione ci può concedere anche questo piccolo miracolo. idem, e questo non vuol dire che entri in Fondazione, ma la stessa cosa è per laboratori giocheria. Abbiamo un patrimonio e non abbiamo l'opportunità di, al momento, di chiamarlo metodo, perché per chiamarlo metodo occorre tutto un determinato iter, che non è mai stato fatto. Concludo dicendo grazie. Grazie per tutti coloro che in queste settimane hanno partecipato a delle commissioni abbastanza stibranti, che hanno partecipato ad incontri anche piuttosto prestanti. Ringrazio in particolare i miei collaboratori, collaboratori del servizio socioeducativo, che in questi mesi non si sono risparmiati nel lavorare alla velocità della luce, a creare e a fare un percorso che, sono d'accordo con chiunque me l'ha detto in questo periodo, richiedeva più tempo, ma il tempo i nostri nidi non ce l'hanno e quindi l'unica soluzione per noi che abbiamo, che siamo stati in grado di trovare, è stata quella di realizzare una fondazione di partecipazione. Grazie. 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 Bene, possiamo aprire la discussione sulla delibera. Sono aperte le prenotazioni, prego. Consigliere di Cristo. Grazie. Grazie Presidente. Prima della discussione, se mi è possibile, ho un quesito da porre per completezza per la discussione all'assessore, se mi potrà rispondere. E poi ho da porre un quesito al Segretario Generale nell'ordine di interpretazione. Mi dica lei quando posso e se posso fare questi due quesiti. Io farei. Mi dica lei. Andiamo avanti sulla discussione. Andiamo la discussione, ma è solo delibera. Sì. E allora lo dico. Allora, ecco, non vale come discussione. Faccio il suo intervento. No, 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 preferisco dopo. E soltanto prima della discussione, perché mi serve la risposta, se l'assessore troverà un momento dopo per, questa è la domanda dell'assessore, per spiegarmi come potrebbe interagire, come ha pensato che può interagire l'eventuale fondazione con i piani di zona che abbiamo con il Comune e i Comuni, perché questo non riesco a capirlo sinceramente. E invece al segretario generale, ed è una domanda di ordine giuridico, noi stasera andiamo a provare uno statuto. La domanda è, però è per sicurezza della POM, non è strumentale. L'approvazione di questo statuto richiede una maggioranza qualificata in analogia allo statuto comunale o basta una maggioranza semplice? Vorrei un parere su questo e solo questo. Grazie. Grazie. Allora, io posso fare una verifica, però non vedrei analogie rispetto allo statuto comunale. Faccio comunque una verifica in modo che prima di arrivare alla votazione si faccia. Allora, come dicevo prima, apriamo la discussione sulla delibere in oggetto. Si è prenotato il consigliere Ghezzi, prego. Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Ma io sono entusiasta, perché davvero stasera ho visto quello che sono abituato a vedere in azienda. Non siamo in un'azienda, lo so, me lo ritirà l'opposizione, ma non mi interessa. Finalmente vedo in atto una visione, una visione che è stupefacente e che a me veramente colpisce è perché, a differenza di quello che purtroppo ho sentito ieri sera, io riconosco il valore dei servizi che sono erogati storicamente dal Comune di Sesto. Però siamo arrivati, come è stato spiegato molto bene, a una situazione di insostenibilità in alcuni casi. Abbiamo una società che paradossalmente, a fronte di un progresso sociale ed antropologico ad accelerazione esponenziale sull'individuo, ormai siamo velocissimi, ma questi individui sono sempre più soli e sempre più bisognosi. E quindi serve chi li aiuta. Io conosco realtà molto vicine, l'ho già detto altre volte, che fruiscono di questi servizi del Comune. E quindi davvero io ringrazio l'assessore per quello che ha fatto, io dico scherzando il sindaco dovremmo farla ministro questo assessore, perché no, una proposta del genere in una situazione storica nella quale verte questo Comune, io direi che è un cambiamento epocale. Manteniamo la qualità dei servizi, tagliamo i costi del 41%, offriamo la possibilità di potenziare l'offerta offrendo una flessibilità di andare anche in rete. Creiamo stabilità sul futuro. Cosa vogliamo di più di questo? Sono proprio curioso di vedere, scusate, perché dopo quello sono rimasto sinceramente colpito da quello che mi è stato detto ieri sera, al di là della questione personale, ma voglio vedere se anche stasera riusciamo a dire che questo esisteva già. Do la parola al consigliere Di Cristo. Sì, grazie. Non intervengo adesso, è soltanto che a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle, così come è stato deciso all'interno della nostra riunione, noi abbiamo chiesto che venga a posto, anzi che citavo anche prima l'assessore, capiamo la questione dei tinti e dell'approfondimento, tra la nostra facoltà, che corremo solo senza polemme e venisse, tanto è vero che dopo faremo anche l'intervento perché in maggio venga bocciato, cediamo la questione sospensiva sul senso dell'articolo 70,2, perché noi riteniamo che non ci siano stati tinti veramente per approfondire tale questione e vogliamo che responsabilmente tutti i consiglieri approvino o boccino la questione sostensiva, anche in vista di un eventuale ricorso che qualcuno non necessariamente noi potrebbe fare dopo a organi superiori. Grazie. È una questione proprio prettamente giuridica. Grazie. Scusi, consigliere mi può ripetere l'ultima parte perché purtroppo stavo guardando un'altra cosa. Grazie. Ci mancherebbe altro, grazie a lei. E vi chiediamo la questione sospensiva come da articolo 70,2, che può essere proposta da un capogruppo. Grazie. Ci sono altri interventi? Mi sta chiedendo, mi sta dicendo che posso andare avanti nel frattempo. Grazie. Allora, io ho guardato la questione. l'articolo. Il comma 2 specifica che si ha questione sospensiva quando viene proposto che la discussione e la deliberazione su un dato argomento debba rinviarsi. Ovviamente ci vuole una motivazione, nel senso che possiamo capire di che cosa si tratta velocemente, ovviamente velocemente, perché se no togliamo una possibilità o un consiglio, ma non possiamo. velocemente si può specificare e poi... Velocissimamente, infatti il comma 3 lo prevede, ve lo illustri e viene messo in discussione senza discussione dell'aula. e la motivazione è che per la fornitura dei dati che abbiamo chiesto, che purtroppo ai me non ci sono stati dati in sede di commissione. Per la tempistica con la quale si è stato affrontato necessariamente, non assolutamente. Nessuno toglie il dubbio che l'amministrazione si sia trovata a dover, in un momento di difficoltà, dover garantire sicuramente a vostro avviso l'apertura dei nidi, però noi riteniamo che la tempistica che ci è stata fornita non ci ha permesso di fare un sereno e approfondito ragionamento su un tema così importante e queste sono le motivazioni principali per cui chiedo una semplice sospensiva, quindi un rimando dell'argomento per approfondimenti, dopodiché serenamente, senza litigare perché così stempera anche gli anni viene o approvata o come prevedo bocciata, però c'è almeno la piena coscienza di ogni consigliere di andare avanti sull'argomento, ma anche perché un domani, ripeto, in sede eventuale di ricorso da parte di qualcuno è un argomento aggiuntivo e quindi di piena responsabilità di chi va a votare questa delibera. Grazie. Ok, penso che sia chiaro a tutti, la possibilità è data con una votazione senza discussione né dichiarazione di voto, quindi si fa una votazione per alzata di mano e poi si prosegue a secondo del votazione. Allora, la votazione consiste ovviamente nella proposta di votare a favore di votazione, o contro la proposta del consigliere, quindi o accettare la sospensiva o votare contro la sostensiva e quindi procedere con la delibera. Favorevoli? Alla sospensiva, scusate. Quindi sono otto favorevoli? Contrari? Sordici contari, quindi non è ammessa la sospensiva. Quindi continuiamo la discussione della delibera, se non ci sono interventi. consigliere Di Pietro? Grazie, Presidente. Ma una battuta al consigliere Ghezzi, se me la può concedere, visto come sta andando il governo italiano a fare il ministro e l'assessore non lo vedo un merito, lo vedrei più un demerito, ma questa è proprio una battuta così, giusto per effettuare un po' l'attenzione. Io devo dire che ringrazio l'assessore perché finalmente stasera abbiamo potuto, come dire, forse meglio comprendere il percorso che ha portato in un tempo relativamente, direi, anzi eccessivamente breve alla costruzione di un progetto, direi, strutturale. strutturale. Sottolineo questa parola strutturale perché poi ci voglio ritornare dopo. La ringrazio perché ha messo in evidenza sicuramente, io dico, un bisogno che non è solo della città di Sesto, un bisogno che è allineato con i tempi di un nuovo modello di welfare. Però mi sento molto, come dire, in difficoltà, io proprio per questo, perché, diciamo, stasera anche dalle slide che ci ha mostrato l'assessore, credo che siano, diciamo, almeno tre i temi che si mettono sul tavolo e si mettono a confronto col rischio di metterli in contrapposizione tra di loro. Abbiamo appunto un'esigenza di un nuovo modello di welfare che personalmente condivido perché sicuramente, diciamo, i tempi cambiano, le esigenze cambiano, i bisogni cambiano e quindi sicuramente siamo chiamati anche a un atto di responsabilità e di verifica se quello che è stato fatto fino ad oggi funziona ancora o non funziona più. Abbiamo però il modello educativo sestese, che sì è vero, c'ero anch'io quella sera a quell'incontro con i genitori, probabilmente non è stato messo a sistema come avrebbe dovuto essere, però io non direi che non sia un modello riconosciuto anche fuori dai confini sestese. È un modello che ha portato alla costituzione di otto nidi, di piccoli e grandi, di servizio per mano, della giocheria. Un modello che quindi voi anche, e questo ne devo dare atto, l'amministrazione oggi riconosce, per fortuna, però è un modello che, come dire, deve essere assolutamente salvaguardato. Non perché, lo dico io, ma perché è un modello che fino ad oggi ha garantito un servizio a chi è potuto usufruire, e mi riferisco soprattutto, ovviamente, ai servizi per l'infanzia, visto che sono i primi a essere coinvolti in questo cambiamento, di livello. Un modello che è passato, come è stato ben esplicitato proprio quella sera, da un servizio che è portato, diciamo, al servizio per l'infanzia, al servizio per le famiglie, a un vero e proprio servizio educativo e formativo dei bambini. Dall'altro, l'altro elemento, è quello economico, perché, per quello che mi è dato intendere, per quello che ho, come dire, anche recepito, soprattutto anche nell'ultima commissione, il dato economico è quello che, come dire, sembra quasi preponderante. Tanto è vero che, mi ricordo, nella prima commissione dove c'è stato illustrato per la prima volta questo progetto, era emerso forte il problema economico e io avevo detto, rivolgendomi all'assessore, che trovavo svilente mettere davanti quasi esclusivamente l'aspetto economico a discapito di quello che è un progetto effettivamente importante che va a impattare fortemente sul modello gestionale attuale e sul modello welfare, diciamo più in generale. Cosa che ho ripetuto ancora qui in questa aula consigliare quando abbiamo discusso del bilancio. Allora, io mi chiedo quali di questi tre temi è quello che merita più attenzione. Io credo tutti, da un certo punto di vista, il welfare, il modello sesto, che io comunque da festese, da utente metterei in primo piano, l'aspetto economico, perché è vero, i servizi non si mantengono se non ci sono le coperture e questo dobbiamo darne atto. Quello che però mi fa specie è che, pensando appunto al modello, alla questione economica, noi ci troviamo in una situazione emergenziale, come ci è stato rappresentato, tant'è vero che è stato detto o si fa così, diciamo, o si cambia, o se no noi non riusciamo ad aprire i nidi nel prossimo anno scolastico. Abbiamo un'emergenza e mi chiedo, si risponde a una situazione emergenziale con un progetto strutturale di questa portata? E se si risponde con un progetto di questa portata lo si fa in una corsa contro il tempo in un mese e mezzo, io dico di no invece, io dico di no e vi spiego perché. Perché una risposta a un bisogno emergenziale con un progetto di questo tipo, con un progetto strutturale, rischia di naufragare o comunque presentare delle grosse falle. Poi l'andremo anche a vedere. Secondo me, è una mia opinione, prendetela come tale, non pretendo di avere la ragione in tasca, però io credo che forse di fronte a un bisogno emergenziale, perché questo è stato rappresentato, perché guardate che nel corso di queste commissioni, io le ho anche riascoltate perché non ho partecipato a tutte, l'ho già detto, e ancora, anche stasera, che un po' fuori, nonostante la prospettiva molto ben confezionata da parte dell'assessore, è molto chiara, per carità, però il dato economico è quello che la fa da padrone. Quindi abbiamo un'emergenza, perché questo è stato detto, un'emergenza che, guardate, siamo chiari fino in fondo, in cui ci avete portato voi, perché avete votato un piano di rientro, peccato che non avete fatto i conti con quelle che potevano essere. No, avete scelto, diciamo, di, come dire, no, avete scelto quella strada, non avete considerato bene quali che sarebbero stati gli assetti collaterali, poi, proprio sul discorso del blocco delle assunzioni, quindi poi come è ricaduta sui servizi. Allora, va bene, non voglio tornare su questo tema, però giusto per dire, giusto per dire, Assessore, posso fare il mio intervento, Assessore Pini? Mi scusi, eh? Perché già non è una situazione facile, chiederei un minimo di attenzione. In ogni caso è una mia opinione e come tale pretenderei che venisse ascoltata, poi potete anche cestinarla perché così sarà, lo so, però almeno. Quello che volevo dire io era, abbiamo un'emergenza, ragioniamo su quello che può essere un cambiamento strutturale, con un progetto ragionato, con i tempi che questo cambiamento richiede, con i confronti anche con gli utenti che questo, diciamo, cambiamento presuppone. Nel frattempo, siccome, tra l'altro, in quest'Aula era stato portato un ordine del giorno che il Sindaco ha fatto proprio di ingresso nella compagine IPIS, che sappiamo già gestire alcuni nostri servizi, io mi chiedo se questo non poteva essere, diciamo, la possibilità, lo strumento per almeno sponte, per traghettare da una gestione diretta dei nidi con i problemi che questa gestione abbiamo visto comportare dal punto di vista economico, non di modello, non di contenuti, e arrivare a, come dire, creare questa fondazione di partecipazione, o comunque un nuovo modello di gestione nei tempi che questa, diciamo, avrebbe necessitato. Io questa cosa la chiedo, la chiedo all'assessore, perché non mi sembra che sia stata, come dire, presa in considerazione, e tra le altre cose, oltretutto, sconfessa un po' l'impegno preso dal Sindaco, e quindi dalla Giunta, dall'amministrazione, in questa aula consigliare. Quindi chiedo conto di questa, diciamo, mancanza, mettiamola così. Io credo, quindi come dicevo prima, non sto, diciamo, criticando la scelta di un cambiamento, professore, io vorrei che questo fosse chiaro. Quello che mi lascia perplesso e che mi preoccupa, l'ha detto anche lei, sono i tempi perché, oltretutto... Era per me? Eh, ho chiesto la doppia dei tempi, però. Posso? Eh, no, no, così. Dicevo che una fondazione chiamata a gestire il sistema di welfare cittadino, a mio avviso, avrebbe richiesto un'apertura di un confronto ampio, molto più partecipato con la città, cosa che è stata fatta, non è stata fatta. Abbiamo ricevuto, tra l'altro, ieri, una mail da parte del gruppo dei genitori dei Nidi, con delle precise richieste, che è a coronamento di una serie di richieste e di un percorso che i genitori hanno fatto. Tra l'altro genitori che, come dire, quella sera, in quell'incontro, hanno dimostrato una grande preparazione sull'argomento. Quindi sono arrivati con delle, diciamo, argomentazioni forti, frutto di una preparazione. Sono stati a Modena per confrontarsi con i genitori che hanno creato il modello Modena, tanto richiamato da questa amministrazione. Hanno posto delle questioni, alle quali però, chiaramente, risposte non ne sono state date. O comunque, è stato detto, si va avanti su questa strada. Parlando ancora di questioni economiche, c'è stato rappresentato un piano economico nell'ultima Commissione. Sinceramente, con rispetto per il funzionario dirigente che ha firmato questo piano economico, mi chiedo come si è stato contemplato, come si è stato confezionato. Diceva prima il consigliere Ghezzi, lo riporta effettivamente, il piano. Si parla di un risparmio del 41%. L'ho chiesto in Commissione, lo chiedo questa sera, come si arriva a determinare questo risparmio. Perché il costo di gestione dei nidi, quello può essere sicuramente, diciamo, ravvisabile, perché guardiamo i bilanci, d'accordo. Ma come si arriva a determinare il costo della fondazione? Per dire che si risparmia il 41%. In Commissione è stato detto, l'unico dato che è stato dato a domanda diretta, è il costo del personale, il costo aziendale di un educatore costa X, 22 mila Euro se non ricordo male, l'attuale costo al Comune è di 28,35 mila Euro. Ecco, allora, se noi mettiamo però, come dire, come parametro, semplicemente, o quasi esclusivamente, il costo del personale, nulla togliendo la professionalità degli educatori che verranno assunti dalla fondazione, qualche dubbio però mi viene. E soprattutto, ripeto, due paginette scarne di documentazione fornitaci in Commissione, non rende, diciamo, contezza di quello che è un piano economico. Allora, visto che il Consigliere Ghezzi le richiama il discorso aziendale, allora io chiedo a voi, quando si fa un progetto, quando si fa un piano industriale, un piano economico finanziario non viene fatto, vogliamo chiamarlo piano economico, vogliamo chiamarlo business plan, e non sono le due pagine che ci sono state portate in Commissione, che possono essere chiamate piano economico finanziario. Allora si va a progettare una rivoluzione del welfare cittadino, perché nella fondazione non entreranno solo i due nidi, si vuole rigenerare tutto il welfare cittadino sulla base di due paginette di piano economico finanziario che si è stato dato in Commissione, e quando sono state fatte domande, non solo sono state date risposte in Commissione, l'unica risposta che mi è stata data, ed è stato quello, anche se vi avessimo messo nella tabella, quelli numeri avremmo messo nella tabella, io non parlavo di numeri, volevo capire come si arrivava a quei numeri, e un piano economico finanziario è basilare per la trasformazione del welfare cittadino con una fondazione, perché se no mi chiedo come sta in piedi la fondazione prima di tutto, e come si arriva a determinare quel risparmio, come si arriva a dire che si risparmia il 41%, voglio capirlo, perché se io devo votare questa sera, con condizioni di causa, voglio capire cosa vado a votare, non soltanto il modello Modena, perché io abito a Cetto San Giovanni, non abito a Modena, e voglio capire come si arriva a quella scelta, perché il modello di fondazione di partecipazione, io non lo sto mettendo in discussione, al di là del fatto che è l'ennesima creazione, si era parlato anche qua di impegni a ridurre le partecipazioni, gli enti partecipati, e adesso introduciamo, è vero, è un'altra cosa la fondazione di partecipazione, rispetto a una associazione, rispetto a una fondazione, rispetto a un ente partecipato, ma come dire, è un ente terzo che entra in gioco, che comporta comunque dei costi di denaro pubblico ovviamente, quindi voglio capire dove sta il risparmio, e come si arriva a determinare il risparmio, dove vado a risparmiare, perché se io risparmio solo sulla qualità del personale, allora comincio a avere dei dubbi, perché chi entra a lavorare in fondazioni, diciamo private, in fondazioni, comunque non nell'ambito pubblico e basta, il rischio è che si faccia un monte ore di lavoro veramente alto, con una risroduzione molto più ridotta, e la garanzia di continuità che diceva l'assessore prima, non è così salvaguardata, perché ne abbiamo un esempio, ne abbiamo un esempio nelle scuole anche, nelle scuole private, dove si lavora tanto, si guadagna molto meno, e appena si può, si va via da lì, allora se io voglio dare continuità, e sono d'accordo su questo, sul discorso della continuità educativa, lo devo fare anche, cioè va guardando chi va a lavorare in quella, diciamo in questo caso nella fondazione, non posso basare soltanto il mio risparmio, almeno poi io voglio essere, sarò contenta di essere smentita, sul risparmio del personale educativo, non ne metto in discussione la professionalità, perché io per prima, lo dico in maniera molto serena, il primo anno di mio figlio, il nido comunale non mi era stato preso, l'ho mandato in un nido privato, contentissima di questa esperienza, perché la qualità era alta anche in quel nido, quindi io non sto facendo una discussione sulla professionalità del personale educativo, che verrà assunto da fondazione, però, perdonatemi, allora o mi dimostrate veramente, la sostenibilità di questo progetto, o qualche dubbio a me resta, e è un dubbio che non mi porta ad approvare favorevolmente la delibera questa sera, non è un dubbio comunque da poco. Scusate, perché siccome sono tante le cose da dire, se chiediamo economico l'ho detto, direi, eh? Ah no, scusate, no, io allora torno, scusate, ah ecco quello che volevo dire, è stato richiamato più volte poi il modello Modena, allora, non dico che lo statuto della, che quando si crea una, diciamo, una fondazione, si debba fare un copy and call, in questo caso la fondazione di partecipazione, si debba fare un copy and call dello statuto, però siccome è stato talmente richiamato il modello Modena, io ho riguardato lo statuto della fondazione di Modena, tanto, diciamo, un modello preso in considerazione, però, là è prevista anche una partecipazione dei genitori, nel nostro statuto, anche qua, per aver smentita, non la vedo, i genitori, voglio dire, sono assistenti utenti, sono assistenti destinatari di un servizio, però siccome, voglio dire, anche nell'ambito delle scuole, la partecipazione dei genitori è non solo auspicabile, ma anche, come dire, da anni ormai richiesta, proprio per uno scambio anche, diciamo, non tanto di competenze, ma di conoscenze, e anche per, come dire, siccome, voglio dire, alla fine i genitori sono quelli che beneficiano anche del servizio erogato, e sono coloro che comunque, con i loro figli, ovviamente, sono soggetti diretti, prime persone, fruitori e beneficiari, appunto, di questo servizio, mi chiedo, come mai, appunto, questa è un'altra domanda che pongo sul tavolo, il modello Modena prevede, nell'ambito dello statuto, la partecipazione, anche nell'ambito dell'assemblea dei genitori, nel modello sestese questa presenza non è prevista. Quindi, io credo che ci siano tante, cioè, ci siano troppe lacune e troppi punti interrogativi ancora sul tavolo che mi fanno, come dire, mi lasciano perplessa sulla bontà non del progetto, lo dico molto espressamente. Io poi sono sempre stata dell'idea che anche una partnership pubblico-privata nella gestione dei servizi non debba essere vista necessariamente negativa. Io, quello che ho sempre detto dall'inizio e che continuo a sottolineare sono soprattutto i tempi che questa scelta ha, diciamo, i tempi di questa scelta, scusate, la invito a concludere, mi avvia la conclusione, e anche una, come dire, un certo ritmo serrato delle commissioni e quindi diciamo che danno la parvenza, per mi perdoni l'espressione assessore, di un confronto che c'è stato per carità che però di fatto non è stato poi portato a termine perché in queste commissioni e negli incontri anche pubblici sono state mosse delle richieste, sono state mosse soprattutto delle obiezioni che non sono state minimamente considerate. io capisco la sua volontà, capisco anche l'esigenza di, come dire, portare avanti un cambiamento che è, come ho detto prima, strutturale e anche di programmazione, di progettazione, di cambiamento radicale del welfare, ma sui tempi e sulle modalità non tanto nella scelta finale ma nelle modalità in cui si è arrivata a questa scelta non sono d'accordo. Sono d'accordo con lei, consigliere, e chiudo, consigliera Ercoli quando dice che il cambiamento porta, come dire, anche un po' di sconforto e di preoccupazione, questo è assolutamente vero e sono d'accordo con lei ma proprio per questo io credo che il cambiamento debba essere accompagnato anche con dei tempi che a volte possono sembrare forse un po' lunghi ma necessari per costruirlo insieme. grazie consigliera Pietro si è prenotato il consigliere Atanasio prego grazie presidente Sesto San Giovanni successo dello sciovero contro l'esternalizzazione del centro di urno disabili comunale tanti lavoratori comunali e anche cittadini sono scesi in piazza ed hanno formato un corteo arrivato fino al municipio di Sesto San Giovanni per dire no all'esternalizzazione del centro di urno disabili e nidi e protestare contro appunto la riorgonizzazione degli asili nido pubblici una prova di forza riuscita di cui maggioranza e sindaco dovranno tener conto della discussione appena iniziata sul futuro di alcuni servizi comunali scorriere di Sesto 29 6 2015 buonasera a tutti intanto voglio fare i complimenti all'assessora Mizzocchi che sta portando avanti questo progetto con responsabilità e decisione ma sembra calma però è tosta ed è arciglia capisco cara costiniera di Pietro che i cambiamenti spaventano ma sono necessari per garantire una crescita ed un futuro alla nostra città cambiare e migliorare la città è un impegno che ci siamo assunti nel momento in cui i cittadini ci hanno votato e dobbiamo rispettarlo per cui questa scelta è indispensabile perché la domanda dei servizi socioeducativi culturali e sanitari è sempre in aumento e con questa fondazione vi ricordo di diritto pubblico creiamo più servizi a minor costi ricordiamo che nel passato nessuno ha avuto il coraggio di intraprendere un percorso di cambiamento nascondendosi indietro a delle scelte politiche che hanno messo in ginocchio il welfare cittadino quindi questa fondazione pubblica controllata al cento per cento dal comune gestirà non solo organi socioeducativi ma anche socio sanitari e tutti i servizi rivolti agli anziari alla disabilità ai minori in difficoltà e tutti i servizi di attività didattiche nonché promuovere e organizzare eventi giusto al settore anche eventi no? mi parlava anche eventi è molto importante quindi è una scelta politica anche nostra quindi nasce per volontà del comune di sesto con lo scopo di raggruppare tutti questi servizi la gestione dei servizi di welfare cittadino rivolti alle molteplici fasce sociali deboli è un dovere da parte degli enti preposti ma anche a causa se la vogliamo dire tutta anche a causa della progressiva diminuzione dei fondi e dei fondi dello Stato e della limitata disponibilità di liquidità da parte del comune per assumere il personale ed altro quindi ci ha portato alla ricerca di un nuovo modello gestionale per poter garantire meglio questi servizi vedi il modello Modena come ci ha detto prima l'assessore che dal 2012 che va avanti questo modello in positivo sta dando a gonfiere per cui non capisco perché la preoccupazione che ha detto San Giovanni non deve andare quindi diciamo che inizialmente come ha detto l'assessore Arcigna l'assessore Fizzocchera complimenti ancora veramente io sono conchetti ma veramente ministro lei doveva essere veramente inizialmente da gestire i due niti comunali boccaccia e tonale con nuovo personale qualificato come dice con un futuro di spero di estensione in futuro anche ad altri primi assicuriamo come le ha detto e sono contento la professionalità mediante anche i costi di formazione quindi questa fondazione ricordiamo che non avrà scopo di lucro non può distribuire utili nei via in direzza avrà un suo consiglio di amministrazione presidente assemblee redditori contatti quindi sarà gestito da persone competenze e professionali controllato ricordiamola ancora una volta totalmente dal comune quindi il comune gestirà anche le gradatorie di accesso ai nidi l'incasso delle reste di frequenza a carico delle famiglie quindi non cambia niente senza preoccupazione caro consigliere leo non ci dobbiamo preoccupare cara consigliere a carico no perché poi magari la settimana prossima ci saranno le bandiere che rosse che vengono in piazza della resistenza e quindi loro sono capaci di fare questa informazione e c'è dopo questa nascita della fondazione verrà creato un protocollo no come come si dice per regolare al meglio i rapporti tra la fondazione e il comune comunque noi siamo qui per lavorare seriamente con chiarezza e serietà insomma questo dovrà rassicurare i genitori e tutti i cittadini perché il comune non vuole assolutamente né chiudere o privatizzare i nidi e né abbandonare le fasci deboli anzi in questo modo li vuole ulteriormente tutelare i nidi cari cittadini carissimi tutti cara Perego i nidi sono e devono rimanere il fiore all'occhiello di Sesto San Giovanni regolarizzazione e modernizzazione dei servizi grazie cara consigliera Parliamo di una consigliera cerchiamo di ricordarlo sempre le figure istituzionali vanno anche rispettate no vanno anche devono essere rispettate specialmente in un'aula di consiglio mi raccomando so che è stato fatto in buona forma però anch'io ma noi che mi sono sentito proprio il babito va bene consigliere di Cristo prego grazie presidente ma al di là un inciso io tutto direi all'assessore Pizzoccara in quanto donna tranne i carcini però forse abbiamo due abbiamo due significati diversi al termine detto questo politicamente politicamente e correva il 4 marzo visto che qualcuno che mi ha preceduto ha voluto partire con un articolo 2015 innegabile correva il 4 marzo quando con uno scambio di messaggi su una questione che avevo posta all'assessore Pizzoccara all'inizio quindi del percorso che ci vede impegnati questa sera a licenziare o meno la delibero in oggetto il mio primo commento a caldo e ce l'ho anche conservato perché sono andato a rivederlo prima di dire stupidate può essere una bella idea se avrà le gambe potrà camminare politicamente per quello che ci riguarda noi non siamo contrari a a una revisione soprattutto dei nidi ma dei servizi welfare a te è ovvio che i servizi nidi costituiscono per quanto un difensore di dei servizi pubblici come me ho sempre detto che il comune non è un'azienda però ovviamente i servizi che eroga devono essere quantomeno minimamente non diciamo pienamente ma minimamente sostenibili è innegabile che soprattutto sui nidi abbiamo un bonus di costi entrati in termini numerici costano se non erro correggetemi se sbaglio però a memoria introitiamo un milione per spenderne cinque sul lungo andare è ovvio che qualsiasi amministrazione deve correre ai ripari per tentare di riequilibrare che non vuol dire necessariamente in termini di servizi pubblici se erogo un milione deve rientrare un milione altrimenti facciamo aziende ma vuol dire io come pubblico ci metto una differenza sostenibile che la città può sostenere per erogare un servizio migliore detto questo l'impianto di per sé non è sbagliato il problema come al solito siamo sulla tempistica adesso se questa tempistica venga dettata io che ho tradotto dei tempi per esempio se la nuova la specificità visto che poi questa tempistica sia dettata dalla contingenza perché avete la necessità giustamente di garantire come dite voi il mantenimento e l'apertura dei due nidi che saranno oggetto eventualmente di inclusione in questa fondazione piuttosto che la chiusura dove tra altre cose il consigliere Atanasi ha detto non chiuderemo i nidi ma uno è stato chiuso comunque già a prescindere per altri motivi giusti per la corona ma bisogna fare una scelta è una scelta anche di di termini bisogna essere poerenti io non dico onesti perché non mi piace perché vuol dire se io uso il termine onesti vuol dire che dall'altra parte sia di onesti e non mi sembra e non voglio pensare che sia il caso di questa sera però coerenza la richiamo sì coerenza nei percorsi che sento sempre più spesso in quest'aula citare da parte della maggioranza i percorsi di condivisione io inizio ad essere un po' allergico quando sento condivisione questo termine da parte di questa maggioranza delle due luna o si diceva chiaramente guardate che abbiamo la necessità la città cari genitori abbiamo la necessità di garantire questi due nidi decidiamo in questa maniera per il bene della città ci dispiace dobbiamo andare avanti altrimenti l'altra strada è chiudiamo per quest'anno questi due nidi assumendosene è un'ipotesi non sto dicendo che andava a fare era un'altra ipotesi vediamo come sopperire per quest'anno abbiamo un discorso di condivisione e abbiamo x tempo per poter approfondire alcune tematiche che portano a a decidere se questa fondazione va fatta in questa maniera o se può essere migliorata quando però ci troviamo una relazione dei revisori che nel cappello introduttivo mette nonostante la tempistica con la quale ci è stata spedita la documentazione possiamo estrivere un parere parliamo di revisione di conti ed è la seconda volta che succede in questa amministrazione non l'ho scritto io l'ha scritto il collegio dei revisori questa volta quindi non solo in contrapposizione tra di loro l'ha scritto l'intero collegio tutti e tre i rappresentanti che la firma è di tutti e tre quindi è certificato come parere e vabbè chi lavora può essere in ritardo non dico esatto può essere in ritardo però non è possibile che su una cosa del genere sia sempre in ritardo e soprattutto su una cosa di questa portata si è detto prendiamo a modello la fondazione Modena e no non si prende a modello la fondazione Modena perché io sono andato a scaricarmi lo statuto della fondazione Modena di Modena abbiamo preso l'idea dalla fondazione Modena perché prendere a modello vuol dire facciamo quello che ha fatto Modena lo applichiamo a sesso sul territorio magari lo abbassiamo in qualche piccola parte per meglio farlo inserire sul tessuto sia territoriale ma soprattutto sociale della città ma se si prende a modello un modello è è un modello collaudato per di più invece no si è preso l'idea di Modena e per esempio laddove si parla di copartecipazione dei genitori è stato se si smette i due testi di fianco è stato cassato la parte genitori cioè laddove si parlava i genitori è stato cassato è una scelta politica non c'è dato da sapere è una scelta dettata dai tempi non c'è dato da sapere cosa ci porta a questo? ci porta ad avere come reazione da parte dei gruppi di genitori pilotati non pilotati strumentalizzati di partito non di partito liberi cittadini intenti chiamateli fate quello che volete cioè considerateli come volete però hanno mandato ben due mail diverse dove in una spero di ritrovarle eccola qua in una entrano proprio nel merito della struttura della fondazione per cui gli educatori devono essere assunti in via diretta eccetera eccetera questo può essere opinabile se se un'associazione o vari genitori possano o non possano entrare nel merito di sicuramente come suggerimento a mio modesto avviso si entrare di diritto a piepare nel decidere a posto di un'amministrazione questa sera senza approfondire mi permetto di dire mi perché la politica esiste a quello assumersi delle responsabilità di scelta però poi leggo un'altra associazione genitori che scrive dove lamenta solo e unicamente chiediamo a gran voce di avere quanto prima veri momenti di confronto in cui documenti alla mano che sono quelli che ahimè sono mancati a noi ma non per colpa dell'assessore Pizzaro io non voglio pensare all'assessore abbiamo i documenti ma non gli eriviamo questi cattivoni dell'opposizione così non gli facciamo studiare e li mettiamo in difficoltà era tutto vantaggio dell'assessore e dell'amministrazione però si era in ritardo giustamente per vari motivi sul progetto e per i momenti di confronto in cui documenti alla mano sia possibile scrivere e modificare insieme la bozza non lo statuto la bozza di statuto quando un gruppo di cittadini intenti scrive questo forse io la persona che amministra che si è presentata politicamente anche con supporto di un nutrito gruppo di tra virgolette rappresentanti del territorio civici quindi non legati a partite che ne hanno fatto dell'ascolto il live motive della campagna elettorale non sono io che ne rispondo ma a me un campanellino d'allarme suonerete perché oggi è con l'associazione ieri era con i cosi è ovvio che la strumentalizzazione da parte di gruppi precostituiti in una città ci può sempre stare però non è possibile che sia sempre su quello che battiamo allora o ci mettiamo d'accordo sul termine e non è strumentale da parte di gruppi io sono convinto conoscendola quel poco e la conosco anche a livello personale sono convinto che non sia voluta questa cosa però o ci mettiamo d'accordo sul termine di condivisione o se no non ci troveremo mai su questa cosa e questo concetto io l'ho già espresso su altre di libere in altre occasioni andiamo per di più stasera e ci chiedete ancora una volta come ha detto il consigliere Ghezzi perché anche io sono un bicefalo anche se non sono sempre al mio posto vede non vedi un bicefalo vedo una visione sì anch'io la vedo anch'io la vedo consigliere Ghezzi però la vedete voi come maggioranza anch'io come opposizione però lei mi sta chiedendo carte alla mano con queste carte alla mano senza un documento finanziario magari anche commissionato fuori se non ha un costo che avrebbe creato un ulteriore punto di bilancio così come la gratuità sugli osti su alcune fasciniche che costa veramente poco ma sarebbe stato un compendio aggiuntivo per permettere a noi consiglieri e anche ai genitori che è tutto il loro interesse perché il posto dove manderanno i figli di analizzare e comprendere a pieno la sostenibilità economica forse non vi rendete conto da questa parte per quanto ci possiamo odiare o amare o voler bene o andare d'accordo che voi di fatto ci state chiedendo di firmare un sogno quindi una cambiale in bianco quindi un contenitore vuoto dove un domani che può stare in piedi all'impalcatura io non sto dicendo che l'impalcatura non sia sostenibile l'impalcatura può essere fatta di platine è bellissima è un'idea innovativa assessore io non le sto contestando assolutamente l'impalcatura però attenzione che questa può essere la chiave di volta per dare il lato magari non a voi ma anche a chi viene dopo per smontare del tutto i servizi welfare nel comune di Sese perché in quella fondazione fatta così come ci si chiede di essere votata oggi con i dati nostri alla mano teoricamente noi ci possiamo buttare dentro tutto dai servizi welfare ai giardini ai micro giardini ma guarda mi sovviene con una vena polemica quella ho ancora nove minuti giusto Presidente con una vena polemica quella cooperativa perché ho avuto a che fare per motivi professionali che era nata come cooperativa di sinistra credo che faceva progetti per la salute mentale me la sono ritrovata che è diventato un colosso negli sfalci d'erba in alcune aree naturalistiche di Milano Sud per cui dalla serie facciamo tutto battereci date la palma a me fa paura questa cosa perché ci sono i trascorsi ho capito che noi andiamo a blindare perché abbiamo il controllo perché abbiamo il soggetto pubblico che è il fondatore e però di fatto il consiglio un passaggio fa in consiglio stasera se non puoi per fare l'affidamento dei servizi ma una volta che sono affidati noi non ci mettiamo più becco come rappresentanti dei cittadini se la vede se la vede la giunta se la vede la giunta quindi non il consiglio comunale non i rappresentanti della città ma il sindaco protempore con l'amministrazione e soprattutto col presidente plenipotenziario che volete andare a creare perché ci sono dei passaggi fatti sì sulla copia di quello dello statuto di Modena che parla e quindi mi fanno paura anche se sono legale sono stati certificati ma permette che a me fa paura fin quando non riesco ad approfondire che la fondazione può disporre fare operazioni bancarie vendere immobile eccetera eccetera ma glielo ho detto anche in sede di commissione io ho anche accorto con favore che mi sono accorto che lei ha accolto il mio suggerimento quando ho detto guardi che è l'esempio l'abbiamo avuto l'altro ieri quando abbiamo fatto e non voglio tornare sempre sullo stesso argomento pelucca ne stiamo pagando le conseguenze doveva essere la panacea per i servizi socioassistenziali su sesto per i nostri anziani cioè questi lo ripeto ci fanno un favore anche a portarci il bilancio per cui non è che sto dicendo cose strane l'invito è soltanto a dire facciamo una scelta dovete farlo di fretta lo statuto comunale ci dice che noi consiglieri di opposizione lo statuto è legge speciale qui c'è il segretario generale che ce lo può confermare quindi prevale sulla legge ordinaria dice se non sbaglio l'articolo 36 che i consiglieri devono essere messi in condizione di fare una scelta approfondita e serena secondo lei con tutte le attenuanti del caso dell'econcedo per rimanere in termini giuridici possiamo fare stasera una scelta del genere su sollecitazioni così evidenti e da parte della cittadinanza e da parte dei consiglieri di opposizione ma secondo voi perché io ho fatto l'articolo 70,2 chiedendo la sostanzia perché volevo che coscienziosamente ognuno di voi si rendesse conto che un domani non è detto che siamo noi o il PP o qualcun'altra opposizione farà ricorso ma può farlo chiunque il ricorso un'associazione dei genitori piuttosto che un'altra se si viene condannato a pagare in solito stasera chi ha votato contro la sostensiva paga in solito perché non ha giustificazione quindi era un favore tra virgolette anche se non richiesto è sicuramente vista l'avversità anche non voluto che in sottoscritta ha voluto fare al consigliere di maggioranza quanto tempo ha ancora? 5-4 minuti per cui mi dispiace questa architrave questa architettura così com'è io la vedo come una chiave di voce come un punterolo un qualcosa che ci permette di scardinare non a voi o a noi ma a qualcuno che potrebbe venire dopo con semplici piccoli accorgimenti per scardinare il sistema welfare di sé e il pericolo c'è è reale c'è fin quando non approfondiamo questa questione il pericolo c'è le cambiali in bianco mi ahimè non le possiamo firmare ma non le possiamo firmare perché saremmo anche poco seri nel nostro ruolo di consiglieri di minoranza che abbiamo un'operazione di controllo il nostro mandato è di controllo e per cui che controllo sarebbe su una cambiale in bianco poi la cambiale può essere un domani può essere incassato benvenga va bene può essere fortuna perché si è fatta una buona processualità e se va male cosa facciamo tra 5 anni tra 6 anni 7 anni paghiamo oppure richiediamo ai cittadini perché una volta che poi è stata fatta questa cosa guardate non si torna indietro non si torna indietro è difficile smantellare quello che è stato fatto sia nel buono sia nel cattivo l'articella della politica si alza sempre la volta dopo si parte da lì non si parte dall'anno zero come si è lasciato magari le vecchie consigliature si parte da lì ed è uno dei motivi per cui la politica sta andando sempre peggio in Italia noi abbiamo proposto e concludo si sono nei tempi abbiamo proposto degli emendamenti io me li hanno suggeriti mi ha suggeriti il mio gruppo non li ho fatti neanche io li ho approvati li ho studiati li ho proposti sono emendamenti che non voglio chiamare non ho nemmeno la presunzione di chiamarli migliorativi ma a nostro avviso fanno sì che la delibera così come è proposta sia meno pericolosa e meno peggiore mi si faccia il termine terribile in italiano di quello che potrebbe essere fatto con spirito proprio di servizio alla città e di servizio ai servizi pubblici della città non c'è nessun motivo strumentale ahimè quello che poi abbiamo chiesto durante le commissioni per quanto la disponibilità dell'assessora effettivamente io non posso dire niente ci sia stata sui motivi che hanno portato a non avere una comparazione sicuramente c'è una scelta politica a priori se nessuno ha pensato io non voglio pensare che un'amministrazione non abbia pensato di far fare uno studio economico finanziario fuori che era la cosa migliore era la cosa migliore perché davamo a terzi la responsabilità di dire sta in piedi una cosa del genere stasera potevamo confrontarci su quello avevamo un dato in più che era un dato rilevante un dato di peso ma lei capisce assessore che senza questa cosa effettivamente per quanto io possa stimarla anche a livello personale non posso per mandato elettorale votarle una cambiale in bianco e non lo farò mai soprattutto su una cosa così sentita quali sono oggi i servizi sociali a testo e soprattutto i servizi welfare che purtroppo ahimè complice politiche nazionali crisi eccetera trovano sul territorio italiano sempre meno risorse in ultimo e concludo guardate che ci sono ma sicuramente il vostro ufficio legale così come la vostra efficientissima capa di gabinetto immagino che anche avvocato avrà fatto ci sono delle sentenze della corte dei fonti che sulle fondazioni create da enti pubblici non sono io non sto dicendo che sono sicuramente tutte negative le sentenze tutte positive vi sto dicendo quello che ho letto ho trovato sentenze e sentenze e sentenze negative cosa vuol dire questo se non vi è certezza della norma o dell'interpretazione della norma è da lì che nasce la questione che se un domani qualcuno paga ahimè signori qualcuno dovrà pagare questa volta perché stiamo parlando di servizi welfare nella piena totalità grazie grazie a lei consigliere come dico la parola magica se non ci sono altri consigliere grazie presidente ma io chiesto il raddoppio dei tempi allora io volevo iniziare ringraziando l'amministrazione per l'ascolto che è dimostrato in queste settimane a fronte appunto di tutte le richieste di chiarimenti che come opposizione abbiamo fatto non solo come partito democratico perché davvero c'è stata una grande attenzione una grande prontezza nell'integrare i dati necessari per arrivare oggi a prendere questa decisione per noi in consiglio e allo stesso modo vorrei ovviamente esprimere tutta la mia stima nei confronti dei colleghi di maggioranza perché hanno evidentemente voluto scavare informarsi approfondire insomma avere sotto mano i dati per poter scegliere appunto questa sera con piena contezza nel senso che evidentemente tutto quello che abbiamo detto e abbiamo chiesto nelle settimane passate è caduto nel dimenticatoio quindi in realtà ci troviamo di fronte a parte del Consiglio che sceglie e qua mi collego alla richiesta che ha fatto il Consigliere di Cristo di venire a votare senza avere gli strumenti per farlo e ci troviamo di fronte a un'amministrazione che ha mostrato direi neanche mancanza di rispetto ma disprezzo nei confronti di una parte del Consiglio che chiedeva appunto chiarimenti noi stasera andiamo a votare una delibera che è accompagnata da una relazione tecnica di passibilità economica che dice questa cosa attualmente i due nidi Tonale e Boccaccio con la gestione diretta hanno un costo di circa 1.170.000 euro la gestione degli stessi nidi attraverso fondazione di partecipazione avrebbe un costo di circa 696.000 euro tale strada a regime porterebbe un'economia di circa il 41% rispetto all'attuale gestione del servizio senza perdere nel modello educativo nel metodo educativo presente nei nidi del comune di Sesto San Giovanni io davvero se queste sei righe vi bastano per scegliere una strada che stravolge completamente magari anche in positivo ma da questo non è chiaro assolutamente il welfare e il sistema dei servizi di una città di 82.000 abitanti bene se voi siete rassicurati da queste sei righe io non posso che esprimere la mia stima nei vostri confronti per quanto ci riguarda invece il percorso purtroppo come tante altre volte ci siamo trovati a dire in quest'aula per altre occasioni e qua anche per questa ci troviamo a dirlo e forse a ribadirlo anche con maggior forza è un percorso estremamente discutibile che riteniamo come partito democratico estremamente discutibile nel metodo e nel merito nel metodo vado a ripetere non perché appunto cioè proprio perché ci siamo confrontati e su questo l'abbiamo davvero individuata come una forte criticità cose che hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto tra le criticità nel metodo abbiamo le tempistiche l'assessore spesso l'ha riconosciuta che l'ha riconosciuto è stato un azzardo forse però quando si azzarda ripeto su un sistema di welfare di una città di 82 mila abitanti bisogna andarci cauti il tutto è partito il 4 marzo oggi è il 18 aprile ritenete voi possibile agire in questo modo stravolgere tutto in un mese e mezzo seconda cosa la partecipazione da un assessore che ha nella sua storia in città fatto della partecipazione anche attiva e critica nei confronti dell'amministrazione comunale la sua bandiera è comunque uno dei suoi punti fermi di lavoro ci saremmo aspettati davvero tutt'altro percorso partecipativo non è solo mancanza di rispetto e di sprezzo nei confronti di parte del consiglio comunale lasciare cadere le occasioni di confronto non rispondere alle richieste di confronto di condivisione di lavoro insieme non di vediamo questo lo dovete prendere ma costruiamo insieme qualcosa lasciar cadere questa richiesta posta tra l'altro dalle mail che abbiamo viste dalle lettere che abbiamo visto su cui siamo stati messi in copia con modalità assolutamente costruttive significa ancora una volta riempirsi forse della parola partecipazione ma lasciarla una parola vuota terzo tema sempre per quanto riguarda il metodo la trasparenza cioè è chiaro a tutti o almeno a chi ha capito un attimo l'oggetto della delibera che questa sera si prova un po' un escamotaggio nel senso che viene spacchettato in due il passaggio questa sera ci si fa votare la costituzione della fondazione e prossimamente ci si farà votare il conferimento dei servizi assessore giusto per collegarmi a una cosa che ha detto lei non è che ci deve rassicurare del fatto che il conferimento dei servizi lo porterete in consiglio perché non è una gentile concessione è previsto dal sesto unico degli enti locali quindi però faccio notare non so se l'avete colto c'è questo sensativo di arginare il problema dicendo ma adesso semplicemente votiamo la costituzione della fondazione poi ci preoccuperemo di vedere il piano economico e di vedere se sta in piedi il conferimento dei servizi peccato che il conferimento dei servizi sia il presupposto anche esplicitato nella delibera per cui si va a costituire la fondazione quindi era necessario e opportuno che la sostenibilità dell'operazione venisse dimostrata a priori perché se non è sostenibile non ha nemmeno senso costituire la fondazione e poi vengo invece a fare delle osservazioni che abbiamo maturato per quanto riguarda invece il merito quindi perché nel merito non siamo assolutamente d'accordo con questa proposta di deliberazione è stato detto più e più volte che appunto il modello preso da cui ci si è voluti a cui ci si è voluti ispirare è il modello di Modena l'abbiamo già detto in realtà i presupposti della fondazione di Modena sono presupposti completamente diversi la fondazione a Modena nasce nel 2012 in un momento di blocco delle assunzioni qua non c'è nessun blocco delle assunzioni non c'è il fatto che l'aver dichiarato il predispesto blocchi le assunzioni qua non assumere quello l'avrebbe bloccato se ci fosse stato l'accesso al fondo di rotazione qua c'è la scelta politica di non voler legittima per noi assolutamente non condivisibile di non volere più assumere direttamente personale educativo per gli asili nido aggiungo come già stato detto che il modello Modena oltretutto l'avete preso solo di nome perché poi se si va a vedere lo statuto lo statuto della fondazione di Sesto San Giovanni della futura fondazione di Sesto San Giovanni manca di tutta una parte guarda caso quella che coinvolge più la parte che riguarda più la partecipazione che invece a Modena c'è mi viene da dire ma poi a Modena ci siete andati no perché vedendo come sono andate le cose sembra che vi siate fermati a Melegnano probabilmente poi detto questo non ci sono state date indicazioni precise o esempi pratici per cui probabilmente è una mancanza nostra di come con questa fondazione si svilupperà il tanto famoso che conosciamo perché già da anni l'amministrazione comunale ha partecipato a bandi di welfare di comunità di welfare generativo ma non ci è stato dato un esempio concreto di come la fondazione potrà invece lavorare nell'ottica del welfare generativo stasera abbiamo anche sentito tanto parlare di pianificazione strategica del fatto che ci siano tanti bandi che non si parlano mi viene da dire cioè è stata non lei assessore perché non era assessore a quei tempi però è stata questa amministrazione a scegliere di spacchettare il bando dei servizi educativi creando appunto tutta quella situazione di criticità che lei prima evidenziava bene rispetto al sostegno appunto ai bambini e ai ragazzi disabili nelle scuole centri estivi per cui oggi mi si viene a dire dobbiamo correre rimedio a un danno che abbiamo creato quindi questo è un altro tema altra cosa l'unica cosa che appare con chiarezza da questa proposta di deliberazione dalle commissioni che ci sono state è che si genererà un risparmio in virtù di qualcosa della stesa di personale quindi che risparmio sarà dato dalla stesa di personale traduco che il personale della fondazione avendo un altro contratto sarà pagato meno e aggiungerei molto meno rispetto al personale educativo dei nidi comunali stasera ci sentiamo dire che così grazie alla fondazione viene garantita la continuità del modello educativo ma io vi faccio una domanda ma secondo voi ma secondo voi del personale assunto a determinate condizioni economiche non farà di tutto per partecipare a dei concorsi pubblici per poter raggiungere una condizione anche economica voglio dire che più agevole o comunque che permessa anche di mantenersi meglio una famiglia cioè fa parte comunque della normalità però questo cosa significa? Significa un turnover incredibile e quindi col turnover significa in realtà ipotecare seriamente la qualità dei servizi perché se c'è un cambiamento continuo i servizi poi in termini di qualità ne risentono cioè nel momento in cui ci sono delle condizioni retributive assolutamente vantaggiose rispetto a chi fa lo stesso lavoro nel nido a un quartiere in fianco e credo che ci dovremmo davvero aspettare delle migrazioni di massa da anno con anno a seconda dei concorsi che verranno fatti nei comuni intorno tra l'altro credo che non siano stati approfonditi tutta una serie di elementi tecnici che potrebbero poi aprire delle criticità nello statuto si prevede che tutta la parte di controllo e di gestione amministrativa la manterrà il settore socioeducativo quindi questo cosa vuol dire vuol dire che la fondazione viene creata solo per fornire educatori e allora se la fondazione viene creata solo per fornire educatori mi suggerisco di verificare che questa non vada a tradursi in intermediazione di mano d'opera altra cosa vado anch'io per punti perché molte delle argomentazioni sono già state affrontate voi questa sera ci chiedete di votare come hanno stigmatizzato nella loro relazione i redisori dei conti una scatola vuota perché non ci avete dimostrato che la scatola sta in piedi non ci avete dimostrato la fattibilità della cosa e questo emerge chiaramente emerge chiaramente che è una scatola vuota ed emerge chiaramente che è in assoluto contrasto con l'impegno che il sindaco si è preso in quest'aula consigliare alcuni mesi fa cioè quello di aderire all'azienda consortile IPIS e di appunto iniziare un percorso di welfare nell'ambito sovralocale e nell'ambito appunto dei comuni del Nord Milano anche su questo anch'io mi unisco alle richieste di chi mi ha preceduto di renderne conto politicamente io faccio presente che la fondazione comunale di partecipazione non è un organismo così snello come dite fate attenzione su questo voi parlate tanto di flessibilità gestionale perché questi sono gli argomenti che sono stati portati flessibilità gestionale superamento delle rigidità del comune bene con questa organizzazione che voi proponete questa sera il problema non si risolve cioè se voi andate a guardare bene mi rivolgo ai consiglieri ai colleghi consiglieri tutta la parte sul controllo analogo per come e per forza è così per come è impostato appunto lo statuto la fondazione ha le medesime regole del comune assunzione del personale affidamento dei contrasti regole della trasparenza dell'anticorruzione allora tutto questo il fatto che abbia esattamente le stesse regole del comune tutto questo è tutto tranne che flessibilità gestionale per come ci viene raccontato e non è certo il superamento dei vincoli che ha il comune aggiungo un'ultima osservazione che può servirvi visto che caparbiamente forse anche in maniera così avventata vi ostinate a procedere per questo percorso è che la fondazione pubblica è vero che va verificato per quanto riguarda l'ultima riforma del terzo settore però la fondazione pubblica sarebbe soggetta a IRAP cosa che invece una fondazione pubblica non è e quindi questo cosa significa? Significa un aumento ulteriore dei costi e una minor competitività sul mercato per cui tutta questa meraviglia e questo progetto stupefacente per utilizzare le parole appunto del consigliere Ghetti forse andrebbero approfondite anche dal punto di vista tecnico mi sembra una strada molto azzardata aggiungo per chiudere che voi non avete reso ragione politica di questa vostra scelta ci avete detto per maggiore efficienza per fare il welfare generativo una bellissima lezione magistrale assessore su questo le dobbiamo dare arco però politicamente non ci avete dato nessuna ragione quello che tutti chiaramente comprendiamo è che si vuole risparmiare su questo io francamente ci leggo una grandissima ambizione e forse anche un ego un po' ipertrofico il problema è che ha i danni della città e di un settore molto molto delicato per la città grazie consigliere Fereco la parola alla consigliera Iosa grazie presidente lei ha chiesto il rabocca di te sì no ma tanto non li userò li ho chiesti perché così almeno non mi viene l'ansia da intervento ricca di complimenti per lei questa serata assessore Pizzossera grandiosa solitamente è mia abitudine quando in città ci sono temi così importanti questo non in questi due anni ma l'ho sempre fatto anche per il periodo che sono rimasta in consiglio comunale nello scorso mandato quando ci sono eventi in città in cui si discute dei temi importanti partecipare e così ho fatto anche questa volta sono andata insieme all'assessore Pizzocchera all'incontro che c'è stato con i genitori e sono andata anche all'incontro che ha fatto il PD per discutere di questo tema non mi soffermerò sulla fondazione in sé perché credo che alla fine della presentazione dell'assessore Pizzocchera per quanto riguarda noi consiglieri di maggioranza credo che potessimo anche votare perché tutto quello che era da dire è stato detto durante la sua presentazione ci sono delle cose però che ritengo importanti sottolineare ci sono delle affermazioni che sono state fatte che nello stesso modo ritengo importante sottolineare che non sono state dette e non sono state spiegate né in commissione né in altri incontri così come sono state rappresentate partiamo da una frase che ho sentito in uno di questi incontri per fare puntini puntini per fare ciò o per iniziare a progettare ci vuole un progetto politico che riconosca al nido la sua ragione d'essere che si renda di supporto alle famiglie dall'insediamento di questa maggioranza e non dal 4 di marzo questa maggioranza ha iniziato a ragionare sul problema dei nidi e mi viene da dire non solo sul problema dei nidi perché dentro in questa partita c'è molto altro si parte dai nidi ma c'è molto altro credo che i dati siano da anni a conoscenza di chi era già seduto in questo consiglio e da un anno e mezzo a conoscenza dei nuovi assessori dei nuovi consiglieri perdonatemi il fatto di non aver scelto l'esternalizzazione e di essere tornati indietro come avete sottolineato su una proposta condivisa in questa aula su un possibile pensiero da fare su un affidamento a IPIS credo che in realtà parli di un progetto politico non è che non sono state fatte e non sono state date le ragioni di questa scelta questa aula aveva votato un ordine del giorno che dava indicazioni su un possibile passaggio ad IPIS alla fine la scelta che viene proposta è un'altra perché non c'è stata la volontà di esternalizzare il servizio neanche attraverso IPIS la presa di coscienza che soli non si può più stare fa sorgere urgentemente e quindi velocemente anche qua è simpatico perché ieri sera eravamo lenti stasera siamo veloci però va bene il bisogno di aprirsi a nuovi progetti le fondazioni di partecipazione non sono società in house sono un'alternativa reale oggi una delle alternative all'esternalizzazione noi avremo comunque sette nidi gestiti dal settore educativo del comune due verranno gestiti attraverso fondazione e cinque con le educatrici che oggi risultano e risulteranno essere in organico stabile azione che risulta come ha spiegato molto bene prima l'assessore pressoché impossibile in esternalizzazione oppure in appalto di servizio dove il gestore si attiene solo al capitolato di gara le fondazioni di partecipazione sono una delle scelte per trovare una via per conciliare l'efficienza economica con la qualità e l'identità educativa del servizio perché come salvo l'educa perché queste robe qua ce le siamo ripetute durante le quattro commissioni e per questo il tono perché e come salvo la qualità e l'identità del servizio mantenendo la gestione dei sette nidi in capo al settore educativo non è vero come ho sentito dire e non si è mai detto che fondazione sarà uno strumento più duttile ed elastico a livello educativo perché stasera la consigliera la consigliera Perego ha detto un'altra cosa che fondazione punto di domanda potrebbe essere uno strumento più duttile a livello gestionale mentre invece nell'incontro che c'è stato del PD è stato detto che fondazione sarebbe stato un metodo più duttile per l'educativo questa cosa non è mai stata detta non è vero che il sindaco di Stefano a cavoli suoi ha proseguito con il blocco delle assunzioni nonostante e causa cessazione del blocco di stabilità lo potesse fare il blocco delle assunzioni dipende dal piano di rientro che ci accompagnerà per i prossimi dieci anni surreale poi che venga detto che l'emergenza la crea chi fa il piano di rientro e non chi ha fatto quello che ha fatto prima non è vero nemmeno che l'assessore ha domanda se ci sarà collaborazione tra educatrici nidi comunali e nidi fondazioni ha risposto che non sarà possibile perché nell'ultima commissione ha detto che continueranno gli incontri del venerdì che ci sono tra le coordinatrici dei sette nidi sette nidi cinque comunali più due di fondazione le educatrici guadagneranno di meno e avendo contratti diversi da quelli dei dipendenti pubblici ci sarà un fuggifuggi generale e continuo e un fuggifuggi generale e continuo a discapito della continuità educativa questo lo dite voi perché nel mondo io capisco che tutti quelli che fanno gli insegnanti e gli educatori possano avere come massimo pensiero nella vita di entrare in un ente pubblico ma c'è tantissima gente estremamente normale che si prende la briga di andare a lavorare in un'azienda privata e di avere contratti privati e non vedo tanta gente in giro per il mondo che si suicida perché non ha un contratto pubblico ma ha un contratto invece di tipo privato ci saranno le persone consigliera Perego che tenderanno a fare i concorsi per entrare nel pubblico lo faranno nei momenti in cui i concorsi sono aperti e quindi lo sapremo esattamente con la stessa tempistica in cui lo sappiamo adesso che parteciperanno al bando di Milano non è che cambieranno le tempistiche scelta troppo veloce per un problema così importante beh in effetti e devo dire consigliera Di Pietro che non l'ho sentito purtroppo solo da lei stasera quando le mie orecchie hanno sentito affermare che ad una situazione di emergenza si risponde con una soluzione di emergenza mi è proprio parso chiaro perché abbiamo trovato tutto quello che abbiamo trovato è proprio evidente questa cosa perché se il mattimo ragionamento che uno può fare è che in una situazione di emergenza dopo anni e anni e anni che questo problema andava risolto perlomeno bisognava metterci la testa e iniziare a pensarci l'unica cosa che viene da dire è benissimo lavoriamo per un altro anno in emergenza poi l'anno prossimo qualcuno ci penserà la vedo come la vedo come la chiara evidenza di tutta la staticità e di tutto il non cambiamento che è stato trovato all'interno dell'ente mi è parso chiaro il motivo e qui cito uno degli avvocati a cui l'assessore Pizzocchera durante le commissioni ci ha chiesto di analizzare aperte virgolette la sfida rivolta alla qualità dei servizi che si inserisce in un quadro di cambiamento della pubblica amministrazione chiamata sempre più a non gestire direttamente ma definire le regole per il funzionamento dei servizi stessi attraverso forme di programmazione e di controllo che portano a riscoprire il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione tramite criteri aziendalistici di efficienza efficacia ed economicità questa cosa non si è mai analizzata negli ultimi 15 anni mi astengo poi perché trovo veramente che sarebbe poco carino usare termini strani all'interno di questo consiglio su dichiarazioni che ci vedono impegnati su un tentativo di risparmio che si nasconde dietro una richiesta di flessibilità unico obiettivo che questa amministrazione ha il taglio di bilancio infatti la scelta di andare verso fondazione e non verso l'esternalizzazione parla proprio di questa roba qua su dichiarazioni che suppongono la non professionalità delle educatrici che verranno assunte in fondazione a tal punto che i bambini verranno sbattuti lì a fare due disegnini e a fine giornata verranno ripresi dai genitori perché tanto le educatrici che si andranno a assumere tramite fondazione non potranno mai avere le caratteristiche che hanno le nostre educatrici anche questo mi piacerebbe sapere chi lo ha stabilito su dichiarazioni che gli esempi portati di Modena sono strumentali perché scelte fatte da un'amministrazione del PD non è vero le scelte non è stato detto in quest'aula sto riportando sto riportando frasi che ho sentito nei vari incontri in città l'assessore è stata strumentale ad usare l'esempio di Modena perché Modena è un comune di centro-sinistra e quindi l'ha fatto apposta perché in questo modo si poteva accreditare la scelta non è vero quello a cui si guardava poteva essere fatto da Pippo da Pluto o da Topolino ma se quella roba lì era funzionale a quello che noi dovevamo fare è proprio inverso il discorso non me ne frega niente che l'ha fatto un comune di centro-sinistra se quella roba lì può andare bene per me io la prendo la leggo e la uso non la copio perché il fatto che sia stato citato Modena non vuol dire che il nostro statuto doveva essere la copia di quello di Modena no non ha detto l'assessore non ha mai detto in commissione ho visto l'esempio Modena e l'ho copiato con la carta carbone o con la fotocopiatrice ha detto ho fatto nel cercare una soluzione nell'osservellarmi di capire come potevo venire fuori ho trovato questo esempio e non me ne frega niente che sia stato fatto dal PD perché potrebbe essere una cosa interessante e io la porto avanti quindi dove sia la strumentalizzazione del fatto che per 150 volte ci ha detto che ha guardato e che ha letto e che ha fatto il caso di Modena onestamente non lo capisco o sul fatto ancora che stiamo mentendo in quanto gli attuali amministratori all'ora di opposizione quindi suppongo siano oggi assessore la Miranda ieri consigliere comunale oggi sindaco di Stefano ieri consigliere comunale il consigliere Lanzoni che stasera non c'è e io per il tempo che ci sono stata ci siamo sempre espressi sullo sproposito ci siamo sempre espressi contro i nidi no noi ci siamo sempre espressi sullo sproposito dei costi che i nidi generavano e sul fatto che non venissero mai fatte proposte per cercare di gestire questa cosa in maniera diversa quindi non è vero che adesso questa amministrazione attraverso il sindaco di Stefano sta facendo questa scelta perché comunque i nidi non gli sono mai piaciuti e quindi abbiamo deciso di toglierli perché ripeto non ce li stiamo togliendo restano tutti e sette decima volta cinque comunali e due di fondazione all'epoca credo che per molti di noi l'unica soluzione che potevamo pensare era l'esternalizzazione di questo me ne assumo essendo allora consigliera comunale di un altro gruppo di questo me ne assumo personale dichiarazione all'epoca per me una delle cose a cui si poteva pensare era l'esternalizzazione e invece dopo un lavoro di ricerca e di confronto la possibilità che oggi intravede questa amministrazione e intravediamo anche noi è la fondazione fondazione e qui sempre cito che risulta essere uno strumento stabile con finalità pubblicistica non riconducibile a logiche di mercato il suo patrimonio è destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariato dove il fondatore partecipa attivamente alla gestione del servizio il fondatore di questa fondazione è il comune di Pesto San Giovanni grazie grazie a lei consigliera Iosa do la parola alla consigliera Pinto grazie presidente ammesso che non volevo intervenire ma l'intervento della collega Iosa mi ha stimolato perché le riconosco la serietà di aver sempre partecipato e di partecipare al dibattito politico cittadino presenziando molte volte alle iniziative organizzate dalle varie forze politiche a me non piacciono i personalismi anzi in politica mi spaventano pure molto complimenti all'assessore si fanno per il lavoro collegiale non per delle scelte individuali voglio sperare questa è la politica voglio sperare che la soluzione che questa maggioranza presenta questa sera non nasca in una stanzetta solitaria del nostro assessore ai servizi sociali educazione e quant'altro perché questo sarebbe una debolezza politica sarebbe una debolezza politica che avete voi soggetti pattivi e io voglio sperare che quantomeno voi a differenza di noi siate stati attivi in questo percorso anche se devo dire che tra gli interventi pubblici ai quali ha partecipato la consigliera Iosa non ce n'è stato uno di nessuna delle forze politico-civiche che siedono in quest'area né tantomeno dell'amministrazione comunale ci sarei andata io io ci sarei andata per capire di più silenzio totale che corrisponde guardate a quella verticalità di proposta politica che questo settore ci ha abituati a discutere in aula ricordiamo ovvero tutti quanti come è andata la discussione del regolamento delle consulte siamo ancora in attesa di risposta almeno io lo sono rispetto all'abolizione così come se nulla fosse del comitato pari opportunità scelta politica scelta politica allora se io vedo una discontinuità questa sera in aula e la vedo è nel voler scaparbiamente riconoscere in questo percorso la necessità frenata di non perdere una storia cittadina di servizi educativi che guardate non è rimasta ferma uguale a se stessa da quando è nata è nata in un modo con una vocazione prettamente sociale e arriviamo qui oggi a parlarne in un altro cioè i servizi di questa città i servizi socioeducativi e non sociali in questo caso di questa città hanno seguito un percorso un'evoluzione una crescita accompagnata da molteplici riflessioni che sono rimaste e sono ricadute sul territorio ci sono tanto di pubblicazioni che rimangono e che sono oggetto di studio da parte delle nostre educatrici dei nostri ecologisti quindi non è vero che non è rimasto niente non è vero non è vero non c'è un centro studi vabbè non c'è un centro studi non siamo neanche una città enorme che è potuto permettere ma l'esperienza rimane è lì allora io vedo questa come discontinuità la volontà la capabilità di voler riconoscere questa in questa scelta il fatto che non si perda di vista la qualità mi rincuora questa cosa mi rincuora perché voglio sperare che poi da parte degli stessi consiglieri dell'amministrazione visto che tanto andremo a votare la fondazione ci sarà la capacità e la volontà di seguire poi come il percorso va avanti di andare a entrare nel merito poi quando verrà presentata qui in aula la proposta di affidare il servizio degli asili nido mi permette una battuta collega di Cristo lei ha ragione nello statuto questo statuto è possibile metterci dentro di tutto se ci guardiamo dentro anche forzando molto in una futura come dire in un futuro possibile ad oggi è possibile affidare probabilmente anche le case comunali non vorremmo darvi però la come dire l'idea allora questa è una discontinuità ma c'è una continuità e lo diceva adesso la consigliera Iosa chi adesso è in maggioranza per anni ha chiesto che questi servizi socioeducativi venissero esternalizzati non con un disegno pedagogico come adesso ci ha descritto l'assessore però la questione è vera è veramente economica senza una prospettiva e senza una visione con quella visione forse anche quella è una visione e guardate io sono convinta poi verrà smentita e sarò felicissima di essere smentita nel tempo sono convinta che questa fondazione non sia altro che una foglia di fico per nascondere invece quella visione quella visione e lo vedremo con la dimostrazione probabilmente del piano economico finanziario della gestione dei nidi quando ci verrà perché quello che è quello che passa in consiglio questa sera sono due paginette ridicole che era meglio non presentare lo dico per lei era meglio non presentare due paginette incoerenti fragili anche con dei dati economici che non mi sembrano proprio coerenti o forse non sembrano a me coerenti perché non vengono spiegati Modena fin dall'inizio io non ho partecipato alle commissioni non le ho neanche sentite registrate quindi non entro nel merito di quello che è stata la discussione di quello che è stata la discussione in commissione non ho questa presunzione visto da fuori però come dire la l'operazione politica ci sta siamo in un contesto di discussione politica e quindi si fa politica era succulento poter presentare come dire come modello Modena e la sua fondazione e però come dire fin da subito si è capito la fragilità di questa di questo parallelo perché perché a Modena è stato già detto la gestione dei servizi riguarda le scuole dell'infanzia e non i nidi perché nello statuto di Modena ampio spazio viene dato al ruolo dei genitori e anche questo assessore è un modello dei miei di sostesi il ruolo che i genitori hanno lì in sé non è un dialogo mi scusi non l'ho interrotta l'ho ascoltata si figuri è un modello che mi viene da dire probabilmente verrà accolto anche da questa amministrazione che pur adottando un contratto lavorativo che è quello dell'anisei che prevede un come dire un compenso uno stipendio per gli educatrici molto più basso rispetto alle colleghe ha però un'integrazione da parte del comune di Modena se si è arrivati a quello statuto attraverso un percorso in cui i genitori sono stati mi trovo che deve essere molto divertente nella mia relazione perché vedo che l'assessore se l'ha ridotto e io invece vorrei un po' più di serietà francamente nell'affrontare questo discorso questo modello ha avuto protagonisti i genitori che per loro stessa dichiarazione sono partiti in un modo nei confronti o con l'amministrazione comunale sono arrivati in un altro sono stati sì protagonisti nella scrittura della bozza partendo dalla bozza dello statuto tutto ciò non è accaduto a questo tutto ciò non è accaduto in modo molto coerente con tutte le scelte politiche che questa amministrazione sta facendo quella verticalità appunto che l'ha vista protagonista e che sono convinta che continuerà a vederla protagonista perché è nel suo stile assessore nonostante ci faccia vedere delle belle slide lei non è una pedagogista questi approfondimenti avrebbero avuto bisogno di ben altre parole di ben altre spiegazioni di ben altri luoghi e probabilmente anche di più di una spiegazione di più di un luogo e di più riflessioni collettive quindi io la visione la vedo la vedo ed è in continuità con il passato una visione che è in continuità e che ha una veste un vestito diverso che lo vuole rendere discontinua la vedo difficile come è camminata mi auguro che vada bene lo dico di cuore mi auguro che vada bene ho molte 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 perplessità lo vedremo andando avanti sono convinta che anche il ruolo dei genitori che si sono organizzati hanno approfondito e che hanno portato il dibattito in città che era molto importante nell'accompagnamento di come questa fondazione agirà l'ho invito a concludere per cortesia sì mi scusi quindi concludo dicendo come ho iniziato a me i personalismi fanno paura mi fanno molta paura e voglio sperare per tutti che questa scelta non sia stata una scelta in solitario per trovare appunto un vestito stretto per una scelta politica e divisione che viene dal passato grazie a lei consigliere do la parola al consigliere Vincelli grazie presidente saluto consiglieri saluto la giunta sindaco presidente e cittadini gli asili nido del comune di Sesto San Giovanni sono da considerarsi ad oggi una delle questioni più problematiche ereditate dall'amministrazione precedente non è vero che noi stiamo lavorando da tre mesi a questa parte noi abbiamo iniziato e da prima accennato la nostra collega Iosa già dall'ottobre 2017 e proprio con l'aiuto dell'amico e collega Federico Pogliaghi il 16 novembre 2017 dopo aver iniziato a vedere alcuni conteggi su quelli che erano gli asili nido e quindi relativo ai costi di gestione dell'entrata nell'anno 2016 abbiamo scoperto con stupore che i costi superavano le entrate di ben 3 milioni 855 mila euro un costo medio a bambino di 11 mila 989 capita abbiamo detto ma come mai 469 bambini a questa amministrazione costavano 5 milioni e le entrate compresi trasferimenti regionali un milione e due ce lo siamo posti e proprio da quel momento abbiamo iniziato come presidente anche del bilancio a chiedere informazioni documentazioni in modo ufficiale per poter capire e comprendere che cosa era successo cioè il perché di questo stato di fatto le strutture erano 8 in alcuni casi piccole e non ottimizzate è stata fatta una corretta attribuzione della fascia ISE sono stati consegnati tutti i documenti necessari dagli iscritti sono state fatte verifica campione sulla corretta compilazione e sulla vericità di quanto dichiarato delle famiglie degli iscritti osservando l'elenco dei frequentanti l'anno 2016 troviamo ben 146 bambini su 439 totali in fascia sociale sotto i 6.585 di ISE dopo un'attenta analisi dei costi siamo giunti alla conclusione che vi è la probabilità che anche su un costo medio per ogni bambino di 1.089 al mese cifra folle considerando che il costo nei paesi limitrofi si aggirava intorno ai 650 euro da lì abbiamo compreso che probabilmente c'erano anche dei costi allocati non prestamente a tali attività per il 31 12 2018 e qui noi siamo a 7 asili in quanto abbiamo deciso nel 2018 di procedere alla chiusura dell'asilo nido di via 20 settembre a causa della non idoneità della struttura non a norma di legge per il 31 12 2018 dal prospetto dei servizi a domanda le entrate sono pari a euro 1.296 e le uscite a 4.646 tenendo presente che ai fini della copertura prevista per legge 36% quindi equivale a 836 mila i costi si calcolano al 50% quindi siamo dentro quindi siamo partiti da dati che tutti voi avete sempre avuto io rimango veramente perpresso e meravigliato di chi oggi si scaglia contro effettivamente una possibile alternativa conoscendo i dati ci venite a dire quali dati noi abbiamo ma noi partiamo da questi dati sono i dati che in questo momento una scelta politica che è stata fatta dalla precedente amministrazione ci ha portato a questa situazione e allora io dico perché non gli andate a dire a quegli 82 mila persone abitanti di Sesto come stanno le cose per 5 anni per 5 anni la vostra scelta politica ha portato un disavanzo di 20 milioni per quanto riguarda la struttura agitiva andiamo avanti abbiamo quindi quando parliamo di esternalizzazione noi abbiamo memoria perché già con la questione CDD e poi anche con una questione che visto i costi che questa amministrazione precedente aveva conteggiato è arrivata a un certo momento che ha trovato la soluzione esternalizzare gli asili questa è una proposta che è stata effettivamente una bocca che è stata all'interno della giunta precedente che è fociata però in uno sciopero degli educatori proprio qui sotto a Palazzo anche noi abbiamo pensato in questo no con gli agli 2017 che è persone che effettivamente abbiamo lavorato insieme per capire e comprendere quale soluzioni potevamo dare quindi non è per niente vero che sono tre mesi che noi stiamo lavorando su questo progetto ma bensì dall'ottobre 2017 probabilmente l'assessore che precedeva chiaramente l'assessore Pitocchera pensava a esternalizzare con chi cooperative che probabilmente il consigliere di Cristo parlava ma noi non abbiamo accettato perché noi riteniamo che stiamo parlando dei nostri bambini ed è fondamentale affidare la loro gestione personale competente e preparato consigliera consigliera Perego questo noi pensiamo non abbiamo la battetta magica voglio ricordarvi che da quando noi ci siamo insegnati abbiamo trovato un problema dietro l'altro con tanto effetto di disavanzio di 26 milioni andate a dirlo agli 82 mila abitanti di Sesto che cosa abbiamo trovato eh abbiamo quindi deciso di proporre l'istituzione a Sesto San Giovanni di una fondazione che si occuperà della gestione dei nidi su un modello di un percorso simile portato avanti nel 2012 dalla città di Modena il nostro sogno è quello di istituire una fondazione autorevole collega di Cristo che non sia un duplicato della fondazione Pelucca perché se no ci andiamo a ritrovarci nella situazione in cui lei giustamente e io sono d'accordo contestiamo la fondazione Pelucca purtroppo è così se non abbiamo una fondazione autorevole forte non possiamo andare avanti perché noi fra anni non ci saremo ma vogliamo effettivamente lasciare a chi verrà dopo di noi una cosa certa una fondazione che sia certa qui mi si parla chiaramente di un consiglio dell'amministrazione articolo 20 eh del nostro statuto ma io vi voglio anche dire articolo 19 di una fondazione Cresciamo fondazione che è stato oggetto di vostra discussione consiglio dell'amministrazione articolo 19 il consiglio dell'amministrazione è composto dal presidente della fondazione ed altri quattro componenti nominati da fondatore originario due dei quattro componenti saranno individuati da fondatore originario all'interno di una rosa di nominativi ivi comprese le società e fondazioni di cui sono siano amministratori sindaci e dipendenti quelle o quelle della stessa controllata che controllano direttamente o indirettamente interessi conflitti con quelli della fondazione dove vedete voi genitori a me non risulta leggiamo l'articolo 20 consiglio dell'amministrazione scusi se la disturbo ma la invito io ho chiesto la dottore di tempi no e lo chiedo grazie no ho pensato di averlo chiesto ma quindi concludo molto concludo velocemente la ringrazio io vi ho sentito anche altri che hanno richiesto la richiesta però glielo posso dire io non è che glielo deve dire tutto il consiglio comunale voglio dire pensavo di averla chiesta non c'è nessun problema però purtroppo le regole sono queste purtroppo quando si dicono le verità effettivamente si è anche taciuti perfetto comunque mentre allora il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui gli altri due membri non appena saranno composti dai rappresentanti degli utenti ma noi lo inseriamo qui dentro noi qui lo inseriamo chi sono gli utenti saranno anche chiaramente i genitori mentre nell'altro non c'è indicato mi accingo a finire mi mette un po' difficoltà comunque questa struttura allora la fondazione di cui il socio fondatore sarà il comune di San Giovanni un'istituzione autorevole che ha a cuore il bene dei sestesi questa struttura non si occuperà solo della gestione dei nidi ma anche di alcune categorie di disabili di altri bisogni sociali che il comune fatica a svolgere al meglio per poter fare utilizzeremo giustamente un personale con ottimizzando costi e funzioni ulteriore manodopera volevo solo fare il finale visto che poi qualcosa è stato anche scritto in tempi anche non sospetti cari consiglieri comunali tutti fate un buon lavoro è la vostra occasione per entrare nella storia di sforza granduchi di Milano fondarono i Martinite nel 1532 con le stelline e da allora ogni bambino nato a Milano nel bisogno ha avuto chi ha pensato a lui non prendiamo tanto ma neppure chi si finisca impantanati da messine veghe contingenti e paesane stiamo lavorando per un bene superiore stiamo lavorando per le famiglie sestesi la città intrepida e attenta attesa di svegliarsi con un bel sogno diventato realtà grazie grazie consigliere mi scuso ma per rispetto anche agli altri bisogna mantenere i tempi consigliere Pogliaghi ha lei la parola grazie buonasera a tutti grazie presidente allora questa sera dopo l'intervento dell'assessore Pizzocchera mi ero ripromesso di non intervenire ulteriormente perché mi sembrava già più che esauriente più che significativa la spiegazione per quanto in questi ultimi interventi dell'opposizione sia stata denigrata nei termini dei contenuti in realtà farei una premessa che dopo il triste tristissimo spettacolo di ieri sera e anche di questa sera ieri sera sul tentativo di attribuzione di alcuni progetti alle passate amministrazioni come se fossero stati realizzati con successo piuttosto che rispetto a come dire attività tipo il fuori salone che c'era già piuttosto che cercare di portarsi a casa risultati rispetto a iniziative attuali ma anche questa sera rispetto allo spettacolino della sospensione del Consiglio per avere come dire ulteriori dettagli economici dopo una serie di commissioni in cui alcuni dettagli economici utili per poter valutare queste scelte sono stati resi disponibili e come dire ripetutamente illustrati mi è sembrato veramente una cosa proprio incomprensibile incomprensibile nel senso che non è stata compresa la scelta di fondazione proprio triste questa cosa nel senso che per quanto mi riguarda io come dire al di là del fatto che sostengo fortemente assolutamente la scelta questa scelta questa soluzione mi sembra di vedere una totale incomprensione nel fatto che la soluzione sia una soluzione per la città una soluzione che si poteva veramente scegliere altro non tutta la maggioranza ve lo dico molto trasparentemente probabilmente è stata inizialmente in tutto il lavoro che ha descritto il consigliere Vincelli coesa nella scelta di l'una rispetto che l'altra le scelte potevano essere continuare così con uno stilicidio che andava avanti rispetto ai servizi educativi perché portare avanti così i nidi in queste condizioni voleva dire rischiare di perdere ulteriori educatori difficoltà a rimpiazzarli costi sempre in crescita e conseguentemente una offerta educativa che sarebbe andata a ridursi oppure esternalizzazione abbiamo parlato tante però bisogna anche capire cosa è l'esternalizzazione esternalizzazione vuol dire costi vuol dire che per controllare la qualità vuol dire metterli tantissimi soldi in più di quanto si spende oggi e quindi nelle condizioni finanziarie dell'ente attuale dopo quello che abbiamo trovato voleva dire ridurre i posti in esilinido questo deve essere chiaro oppure una soluzione come quella che è stata trovata che è una soluzione che permette tutto quello che è stato ben illustrato dall'assessore ovvero sia la continuità il presidio e soprattutto la qualità dei servizi per un numero crescente di bambini perché richiamo le cifre citate dal consigliere Vincelli non si può pensare di continuare ad andare avanti a gestire i nidi a 1100 euro bambino al mese 11.000 come ha citato lui all'anno calcolati sui 10 mesi questa è una cosa che neanche le strutture private del centro di Milano fanno questa cosa qua è una cosa non sostenibile dall'ente e prima o poi si doveva rompere si poteva rompere e noi stiamo intervenendo prima che questa cosa effettivamente si rompa ora si è parlato di timore si è parlato di timore in questa scelta è giusto che ci sia timore è umano che ci sia timore in una scelta coraggiosa mi spiace che non ci sia più in consiglio il consigliere Piano che invocava tanto il coraggio nelle scelte nelle scelte di cambiamento ma senza vincere questo timore sulla scelta e non alla cieca perché veramente la quantità di incontri fatti la disponibilità fatta data verso tutte le parti è stata veramente enorme dal mio punto di vista senza questo coraggio non si va avanti non si fa il bene all'ente si fa quello che abbiamo trovato fino ad oggi ovvero sia una città completamente ingessata in cui come ha detto ieri il consigliere Leo sono stati fatti sì dei bellissimi progetti ma senza risultati qua siamo in una città che è autoreferenziale che ha guardato su se stessa per decine di anni e i risultati si vedono perché si è arrivati al punto che non si tagliava più nemmeno l'erba e che ogni anno si riducevano i posti ai nidi oppure che si dichiarava che si erano mantenuti i servizi a scapito di cosa? a scapito di un bilancio che non era oggettivamente in equilibrio mi spiace continuare a richiamare i dati finanziari di bilancio ma siccome questo guida purtroppo il nostro incedere il nostro andare avanti nella nostra responsabilità da qua a venire negli anni perché siamo impegnati su un piano di rientro questo va tenuto da conto va tenuto da conto nel erogare servizi cittadini con responsabilità ora non commento ma mi porto avanti così non faccio ulteriori interventi dato che è tardi sugli successivi inventamenti proposti dal PD ma solo un commento rispetto alla mail arrivata ieri dal da comitato genitori quello quello che è stato scritto è particolarmente scorretto io vi invito vi invito veramente a prepararvi e a studiare bene rispetto alle fondazioni di partecipazione perché si richiede così come negli emendamenti per esempio una scelta diretta degli educatori questa cosa qua è giuridicamente completamente impossibile inaccettabile in una fondazione pubblica di partecipazione quindi invito a pesare le parole consigliere Apergo quando si cita la somministrazione perché bisogna bisogna l'intermediazione scusate sono stanco un po' ecco perché bisogna sapere sapere di cosa si sta parlando quando si parla di intermediazione nel momento in cui si è dato un organigramma di chi gestisce che cosa mi piacerebbe capire come fa fondazione a fare intermediazione in quell'organigramma cioè bisogna parlare a ragione perché io vedo tante cose scorrette che sono girate che fanno male informazione dopo le persone non capiscono chiaramente e la conseguenza è che andando avanti così sembra viene riportato tutto il discorso su una scelta unilaterale non è così non è così grazie grazie signor Pugliaghi se non ci sono altri interventi do la parola all'assessore non ci sono interventi prego assessore grazie presidente ho ascoltato con attenzione gli interventi dell'opposizione quando non si hanno argomenti si cerca di ridicolizzare l'avversario in questo infatti ringrazio la consigliera Peredo e la consigliera Città colgo l'intervento invece del consigliere Pugliaghi che dice appunto che la città è stata sempre autoreferenziata referenziale infatti la consigliera Città ha proprio detto e ha ripetuto più volte il metodo le sperimentazioni i progetti nella città sul territorio cittadino per i cittadini punto allora quando si parla di costruire un metodo o un modello e siccome io non sono una pedagogista è vero però sono un ricercatore e metodologa e costruisco metodi e modelli da vent'anni quindi so bene che noi abbiamo un patrimonio che non abbiamo caricato a terra e quando dico così dico che non l'abbiamo fatto diventare un modello certificato e un metodo che in questo modo sopravvive nel tempo sopravvive alla esistenza dell'educatrice A dell'educatrice B stessa cosa per piccoli e grandi è identico non è stato modellizzato e quindi non può sopravvivere all'educatrice A e all'educatrice B non può sopravvivere allo psicopedagogista Alessandro Porchedu che per carità gli auguro di rimanere nell'ente per anni e anni però lui è il mentore e ne parliamo spesso io e lui e lui stesso lo ammette e argomentiamo per capire una strada e una via per poterlo modellizzare quindi non me lo sogno io non sono una che una come si dice in Toscana farolaia no parlo per condizione di causa e parlo per il bene di questa città anche nel futuro un altro elemento che che insomma mi pare piuttosto buffo e bizzarro è l'essere verticistica che può essere sicuramente per carità di Dio detto questo però se veramente io avessi usato fondazione di partecipazione come uno specchietto per le allodole scusatemi ma se sono verticistica e se voglio fare quello che voglio da sola autoreferenziata e compagnia cantando eh avrei esprimato in modo molto più semplice se questo era il mio obiettivo e se era questo il mio obiettivo e non nostro collegiale di maggioranza ok se veramente avessi portato avanti quello che mi hanno detto beh semplicemente avrei appaltato subappaltato eccetera siccome ho anche impegnato un certo tempo del consiglio comunale a raccontare quello che invece vuole essere una nuova visione di welfare e quindi non solo di socio educativo per questo lo statuto prevede anche un socio educativo socio assistenziale e altre tipologie di servizi che sempre sono all'interno del welfare quindi no non andremo a tagliare l'erba nei giardini con fondazione no perché welfare però per carità di Dio se il fatto di avere un'attività legata alla natura fa parte di un laboratorio allora sì ma questa è un'altra questione per quanto riguarda invece la partecipazione allora la partecipazione la partecipazione dei genitori bisogna capire un po' a quali livelli stiamo parlando faccio un passo indietro siamo stati a Modena abbiamo incontrato l'assessore erano presenti anche il consigliere Monteni il nostro sindaco il capo di gabinetto Cristina Crufi e Ruta nonché altre persone dello stasso l'assessore ci ha chiarito subito se volete intraprendere questa strada di fondazione di partecipazione imparate da subito a tenere i piani ben separati il piano politico il piano della città e dei genitori e il piano dei sindacati beh io ho fatto tesoro di questa indicazione perché per me destra sinistra è irrilevante nel momento in cui stiamo parlando di trovare una soluzione fattiva per il bene del territorio quindi io ho fatto tesoro di quello che ci hanno detto a Modena il modello di Modena è un modello benissimo dopodiché esiste il fatto anche che la città di Sesto San Giovanni ha dei bisogni diversi da quelli della città di Modena vero anche che la fondazione di Modena è estremamente prescrittiva e identifica chiaramente nel sostatuto lo 06 di fatto il 36 anche se nel sostatuto ovviamente apre l'opportunità dei nidi apre l'opportunità dei nidi ma di fatto fino ad oggi non ci sta pensando e ci hanno confermato che non ci penseranno quindi voglio dire per loro questa è stata la strada beh noi abbiamo avuto un'altra idea perché la città ha altri bisogni oggettivamente i genitori è vero ci siamo scritti alcune mail di cui una di queste ancora a Mars in cui chiedevano un incontro per confrontarsi sullo statuto io in risposta concedo subito loro un incontro il 3 di aprile loro scrivono tipo il 30 di marzo io lo do per il 3 di aprile salvo poi scrivermi che non era più interessante per loro incontrarsi perché ci sarebbe stata l'assemblea cittadina ora sono due momenti diversi in cui si parla di due cose completamente diverse quindi consigliere di Cristo io l'incontro ai cittadini l'avevo immediatamente dato come mi è stato poi rifiutato detto questo però è anche vero che se lo statuto viene costruito dal mio punto di vista condividendolo in particolar modo in commissione il contratto di servizio quello era e dovrebbe essere il luogo dove tu incontri i genitori che sono poi i futuri utenti o gli attuali utenti del tipo di servizio inoltre aggiungo anche che abbiamo comitati di gestione che rimangono e permangono per sette miei di quelli quello comunque sarà un continuo incontro con i genitori per parlare dei servizi per parlare dei contenuti del servizio non serve che siano dentro fondazione esistono i forum dei genitori che continueranno ad esserci composti anche da soggetti che saranno all'interno di ipotetici servizi di fondazione e quindi continueremo ad avere luoghi democratici di confronto sui servizi stessa cosa per quanto riguarda il tavolo della 104 per cui nel momento in cui noi fondazione di partecipazione prevediamo all'interno del cda degli esponenti tecnici li riassumo con questo termine e degli esponenti rappresentativi delle varie rappresentanze cittadine quindi significa che ci sono vari livelli di incontro e anche di approfondimento sulle problematiche o sui bisogni specifici e non serve che siano all'interno dell'assemblea di una fondazione dove all'interno dell'assemblea della fondazione saranno presenti i fondatori originari aderenti i partecipanti istituzionali i sostenitori poi se quei gruppi di genitori diventeranno sostenitori quindi dovranno però adempiere a dei servizi che fondazione eroga perché un conto è fondazione un conto poi sono il comune che affida il servizio a fondazione allora come oggi se io ho un servizio affidato io comune noi come comune affidiamo un servizio ad un ente che eroga servizi quindi ad una cooperativa ok io come comune continuo ad avere il ruolo di contatto con i bisogni degli utenti non è la cooperativa che fornisce il servizio e quindi qui io non riesco a vedere faccio proprio fatica forse perché credo nel fatto che ci siano questi organi di parte organismi di partecipazione come i forum i comitati genitori nidi o meglio scusate i comitati di gestione dei nidi il tavolo della 104 e la commissione mensa con cui credo di non essermi mai tirata indietro a qualunque tipo di incontro e continuerò così nonostante voi mi abbiate dipinta come la strega cattiva di biancaneve la regina cattiva scusate di biancaneve eh vedi allora benissimo anche Atanasio mi ha dato dell'Arcini effettivamente il consigliere Atanasio bene quindi io su questo sulla partecipazione boh non so dopodiché per quanto riguarda l'emergenza 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 io non posso rispondere ad una situazione di emergenza con una poppa quando parlo di bambini 0-3 anni ossia fare un affidamento momentaneo ad un qualunque altro ente l'IPIS piuttosto che un'altra cooperativa significherebbe naturare e stravolgere per un anno o due anni il servizio per poi riportarlo laddove invece vorremmo andare allora su altri servizi concordo con lei consigliera Di Pietro è probabilmente possibile farlo i protocolli della pubblica amministrazione lo indicano la sternalizzazione può essere usata momentaneamente laddove ci si deve organizzare per cui lo capisco ma non riesco in limite meno probabilmente a comprendere come possa essere più efficiente o comunque una toppa sana quella di fare questo genere di passaggio per cui io qui mi sento di dire che è vero abbiamo forzato su fondazione per questi nidi in tempi quindi da febbraio in tempi abbastanza stretti devo dire che il modello di Modena hanno iniziato anche loro fattivamente a parlare di fondazione al mese di febbraio del 2012 non me lo sono sognato non solo l'ho letto ma quando siamo andati a Modena la dirigente del servizio educativo me l'ha confermato quindi no non mi sono confermata per quanto riguarda gli appalti l'appalto di servizio per quanto riguarda i costi allora per quanto riguarda i costi noi abbiamo chiesto ad aziende che svolgono questo genere di servizio anche ad IPIS l'abbiamo chiesto un preventivo sulla gestione di questi due nidi e il preventivo andava su circa 850 mila euro l'anno per la gestione di due nidi appalto di servizio acquisto un servizio quindi non acquisto sostanzialmente a prezzo di costo tutto il pacchetto ma è acquisto sostanzialmente a prezzo di costo e poi c'è tutta una sorta di rincaro perché comunque un guadagno ci deve essere per poi sostenere tutti i servizi dell'azienda cooperativa o comunque azienda speciale perché non è che viene regalato la dimostrazione è Duzman noi abbiamo in appalto di servizio le ausiliarie che per gli nidi ci costano circa 300 mila euro se noi in realtà le ausiliarie le assumessimo in fondazione se fondazione assumesse direttamente le ausiliare il costo di mezza è anche un pezzettino di più per cui da questo ragionamento quando noi diciamo che 700 mila euro l'anno sono un costo per questi due nidi in fondazione che non ha nessuno scopo di lucro che sostanzialmente noi andiamo a sostenere con dei trasferimenti diretti il sostenere l'attività di fondazione ok che poi eroga un servizio è chiaro che non c'è tanta distanza dal costo di andare in appalto quindi è molto verosimile perché fondazione poi nel momento in cui ha il suo fondatore che ha anche una compartecipazione di pezzettini del servizio la parte educativa scusate non educativa del coordinamento educativo e la parte di amministrativo non sono dei sovracosti che invece abbiamo nell'appalto di servizio quindi io capisco che questa relazione è una relazione sintetica ma non è una relazione poco verosimile è una relazione estremamente verosimile per quanto riguarda l'intermediazione di lavoro non è assolutamente un rischio perché la fondazione di partecipazione dice chiaramente che non solo il fondatore originario può partecipare alle attività di lavoro svolte dai servizi offerti da fondazione ma addirittura i sostenitori possono prestare la propria professionalità all'interno dell'attività di fondazione invece di versare il fondo di gestione quindi io capisco che la fondazione di partecipazione è sicuramente una tipologia estremamente eclettica e quindi laddove tu vai ad incontrare un modello può essere molto diverso dall'altro ma proprio per questo crediamo sia un'ottima strada per il futuro per poter compartecipare continuare a compartecipare ai servizi della città e per la città a differenza di scelte più estreme e che in qualche modo tagliano il cordone umbericale tra l'ente comunale e il servizio dato alla città e queste scelte sono l'apparto futuro grazie bene alla delibera in oggetto sono stati presentati ordini del giorno e emendamenti ordini del giorno sono quattro che abbiamo provveduto a numerare altri quattro quattro ordini del giorno che abbiamo numerati con uno due tre e quattro poi li leggeremo e gli emendamenti sono quattro del partito democratico e quattro del movimento cinque stelle partiamo con gli emendamenti partiamo con l'emendamento uno se me lo do l'emendamento uno che fa riferimento del partito democratico penso che parli lo presenti dal consigliere Apergo io noi l'abbiamo numerato col numero uno è attività strumentali accessorie connesse modificate da modificare nel seguente modo l'ha trovato? non la sento non la sento scusate ce l'avevo scritto guardi glielo leggo io così magari si si è l'emendamento appunto all'articolo 4 la fondazione provvede all'erogazione dei servizi no l'emendamento dell'articolo 4 attività strumentali accessorie connesse modificare nel seguente modo la fondazione provvede esatto quello che sto dicendo la fondazione è quello presidente la fondazione provvede che ce ne sono due che si assomigliano per quello no questo è il nostro all'erogazione dei servizi scolastici ed educativi attraverso l'assunzione di educatori e di supporti educativi necessari allo svolgimento del servizio unicamente in via diretta ovviamente non vuol dire tra l'altro questo è un argomento che era stato anche toccato in commissione non vuol dire a chiamata diretta come è stato erroneamente interpretato dal consigliere Fogliaghi ma si intende che può assumere personale solamente come dipendente diretto e non con altre forme consigliere avete tre minuti di tempo per esprimere il vostro parere sulla dichiarazione di voi le prenotazioni vengono fatte a video se non ci sono le prenotazioni mettiamo in votazione apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrari 15 assenuti nessuno quindi non passa passiamo all'emendamento numero 2 sempre del partito democratico anche questo emendamento all'articolo 4 emendamento allo statuto della fondazione partecipata in alto grazie presidente allora noi proponiamo di eliminare appunto nel paragrafo cioè nell'indicazione di quali sono le attività svolte dalla fondazione di lasciare solamente i servizi educativi ed eliminare invece i servizi socioassistenziali le ragioni in realtà di questo le avevamo già esposte in commissioni perché trattandosi di servizi estremamente diversi addirittura se poi si contempla come ho sentito questa sera il socio sanitario si tratta davvero di fare un minestrone con servizi che non solo sono diversi per natura e per vocazione ma in termini anche di disciplina e di appunto accreditamento e funzionamento in particolare per il socio sanitario proprio per questo chiediamo di limitare l'attività della fondazione solamente i servizi socioeducativi grazie consigliere a perego a video le prenotazioni se non ci sono interventi mettiamo in votazione l'emendamento apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contravi 15 astenuti nessuno non passa l'emendamento passiamo passiamo all'emendamento sempre del partito democratico numerato numero 3 che porta emendamento allo statuto della fondazione di partecipazione emendamento all'articolo 17 prego consigliera ferese grazie presidente proponiamo di esplicitare meglio i partecipanti coloro che partecipano ai lavori dell'assemblea aggiungendo partecipano ai lavori dell'assemblea con diritto di parole con diritto di voto anche i rappresentanti degli utenti e dei servizi che verranno implementati apportati svolte all'interno della fondazione e i rappresentanti dei dipendenti della fondazione le modalità di partecipazione dei dipendenti e dei rappresentanti dei genitori sono definite con apposito regolamento interno ovviamente l'emendamento va nella direzione di riuscire a garantire pienamente la partecipazione lo spirito generativo di cui tanto si è parlato questa sera della fondazione e di consentire anche non solo a familiari o portatori di interesse ma anche ai lavoratori della fondazione di partecipare appunto all'assemblea grazie consigliere apperego se qualcuno si vuole prenotare l'intervento se non metto in votazione mettiamo in votazione l'emendamento apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrari 15 assenuti nessuno non passa l'emendamento passiamo all'emendamento sempre del partito democratico la numerazione numero 4 emendamento allo statuto della fondazione prego consigliera apperego grazie presidente questo riguarda la composizione del consiglio di amministrazione rispetto appunto alla proposta attuale della nomina di 5 membri più 2 indicati poi indicati appunto direttamente dall'amministrazione noi proponiamo che vengano indicati tre componenti di esperienze e professionalità provenienti da ambienti scientifici socioeducativi socioassistenziali o sociosanitari di questi tre sceglieranno poi il presidente che verrà votato dall'interesse del consiglio di amministrazione invece gli altri due componenti dei cinque devono essere eletti dall'assemblea tra le rappresentanze degli utenti dei servizi che verranno implementati apportati o svolti all'interno della fondazione aggiungiamo poi una durata a proposito del consiglio di amministrazione transitorio perché trattandosi di un consiglio di amministrazione transitorio riteniamo si deve indicare una durata appunto relativa e quindi non superiore a sei mesi e poi anche nella parte finale qualora un componente del consiglio cessi dalla carica prima della scadenza i soggetti che lo hanno nominato eletto provvedono con le modalità sopradescritte alla nomina del suo sostituto grazie consigliere non ci sono interventi mettiamo in votazione apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrarre 15 assenuti nessuno non passa l'emendamento passiamo agli emendamenti presentati dal movimento 5 stelle primo emendamento oggetto 1 l'ha trovato consigliere di Cristo prego allora qui praticamente si propone di fare una modifica all'articolo 17 di modificarlo così come è scritto e aggiungendo al fondatore originale spetta in ogni caso un numero di voti para un terzo più uno dei voti complessivi questo per garantire comunque al socio fondatore una dargli una garanzia ulteriore e partecipano ai lavori dell'assemblea con diritto di parola e senza diritto di voto anche due rappresentanti dei genitori dei bambini e delle bambine che frequentano le strutture gestite dalla fondazione un rappresentante dei dipendenti della fondazione e un rappresentante per ogni servizio inserito in futuro nella fondazione praticamente si chiede che facciano sì di dargli il diritto di partecipare ai lavori ovviamente senza diritto di voto perché siamo d'accordo sulla distinzione dei piani a cui accennava prima sia l'assessore ma che avevo richiamato anch'io nel corso del mio intervento grazie grazie a lei consigliere non ci sono interventi mettiamo l'amministra in votazione apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrari 15 assenuti nessuno non passa l'emendamento passiamo al secondo emendamento la numerazione numero 6 sempre del Movimento 5 Stelle oggetto 2 emendamento alla proposta di deliberazione tra la parola sempre consigliere di Cristo prego consigliere grazie presidente si propone una modifica all'articolo 18 sul funzionamento dell'assemblea noi abbiamo proposto non me la so a leggere vi sta anche allora tanto ce l'avete la copia e praticamente è stata fatta una proposta di emendarla in maniera più articolata nelle modalità che sicuramente avrete avuto modo di leggere grazie grazie a lei non ci sono interventi mettiamo in votazione apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrarre 15 assenuti 0 non passa l'emendamento ora l'emendamento sempre del Movimento 5 Stelle presenza consigliere di Cristo oggetto 3 prego consigliere grazie si propone di aggiungere all'articolo 23 dove si parla del revisore contabile la riga del revisore contabile nominato dall'assemblea tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili è una mera puntualizzazione non ci sono interventi mettiamo in votazione apro la votazione chiudo la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrarre 15 assenuti nessuno non passa l'emendamento passiamo passiamo all'ultimo emendamento Movimento 5 Stelle oggetto numero 4 dalla parola consigliere di Cristo grazie presidente qui praticamente richiamando quello che ho detto nel corso del mio intervento puntualizzo comunque quelle che sono non devi dare stromissione da parte del consiglio comunale che è l'organo rappresentativo da parte del comunale io lo ricordo sempre del comunale praticamente chiedo che venga inserito l'articolo 24 bis specificando che sono prerogative del consiglio comunale l'approvazione delle modifiche statutari la deliberazione in ordine all'accettazione di eredità legate a donazioni nonché all'acquisto e all'allenazione di beni immobili la deliberazione dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori la deliberazione in merito allo scioglimento della fondazione la deliberazione su ogni altra questione che venga sottoposta questo proprio per salvaguardare i diritti dell'organo di rappresentanza che noi questa sera costituiamo ma che in futuro sicuramente sarà costituita da altri grazie grazie a lei consigliere non ci sono prenotazioni per intervento quindi mettiamo in votazione apro la votazione chiudo la votazione presenti 21 favorevoli 6 contrari 15 astenuti nessuno e non passa l'emendamento ma ma è canadio non potà ma canadio Grazie a tutti. Pensavo di aver schiacciato. Confermo i 15 contrari. Passiamo adesso agli ordini del giorno, che sono 4. Primo ordine del giorno presentato dal Partito Democratico. Lo presenta, credo, la consigliera Pastorema, prima primataria? Esatto, grazie. Grazie, Presidente. Grazie. Allora, dunque, ordine del giorno collegato alla proposta di deliberazione 429 2019, Costituzione e fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di welfare cittadino. Allora, i consiglieri comunali del Partito Democratico, vista la proposta di deliberazione, semplifico un po', eh, preso atto che nella suddetta delibera si afferma che la fondazione avvierà la propria attività a partire dall'anno 2019-2020 con la gestione dei due asili Mido, Ittonale e Boccaccio, vista la relazione tecnica-economica di fattibilità legata alla proposta di deliberazione 429 2019, consegnata ai consiglieri comunali e oggetto di discussione in sede di terza commissione, consigliare giovedì 11-4-2019, in cui si prevede che si genere un risparmio di circa 400 mila Euro sulla spesa personale in virtù del diverso contratto applicato alle future, future lavoratrici, lavoratori. Dato atto che, più volte l'amministrazione ha affermato in commissione consigliare che la costituzione della fondazione e la gestione dei nidi tramite questa non sono finalizzate a un risparmio di risorse, considerato che il costo del lavoro rappresenta uno degli elementi fondamentali per la qualità e la sostenibilità del servizio, con il presente ordine del giorno, allegato alla proposta di delibera relativa all'approvazione della Costituzione, della fondazione, eccetera, impegnano la giunta comunale ad assumere l'impegno di utilizzare parte delle risorse che si libereranno con il cambio di gestione, dalla gestione diretta alla gestione tramite fondazione, per integrare la differenza di retribuzione fra personale educativo degli asili nido comunali e personale educativo che sarà impiegato nella fondazione di partecipazione. Questo mi scusi per non creare lavoratori di serie A e di serie B, lavoratori che svolgeranno lo stesso lavoro con anche simili competenze e capacità. Grazie. Grazie a lei. Consiglieri, noi adesso avremo per ogni ordine del giorno la dichiarazione di voto. Chiedo, visto l'orario, se siete d'accordo, se vogliamo passare alla votazione diretta o se vogliamo fare la dichiarazione di voto. Come preferite voi? Siccome si è già verificato, se è già verificato in un altro consiglio? Come? Presidente, solo per gli ordini del giorno? Gli ordini del giorno e poi andiamo a votare normalmente la dichiarazione. direi d'accordo. Parlo io per voi, per tutti. Va bene, noi siamo d'accordo. Allora, tutti contenti, eh? Mettiamo in votazione il primo ordine del giorno. Apro la votazione. io voto per gli ordini. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 6, contrari 15, astenuti nessuno. Non passa l'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno numero 2, sempre presentato dal Partito Democratico. Primo fine pari a Roberta Perego. Qual è la parola? Grazie, Presidente. Le premesse di quest'ordine del giorno sono le medesime dell'ordine del giorno precedente. In particolare, però, si fa riferimento a quanto l'amministrazione ha sempre detto che l'obiettivo della Costituzione della Fondazione non è risparmio di risorse, si fa riferimento anche al fatto che da quest'anno educativo i posti, come c'è scritto nella relazione, i posti negli asili nido comunali sono 409, mentre fino all'anno educativo passato erano 422. Dal momento, con quest'ordine del giorno, impegniamo il Sindaco e la Giunta a utilizzare le risorse che si libereranno, visto che l'obiettivo non è risparmio economico, per acquistare voucher negli asili nido accreditati, quindi proseguendo nella direzione già intrapresa dall'amministrazione comunale, aumentando la platea dei bambini che frequentano il nido, raddoppiando almeno i voucher attualmente disponibili sulla carta, che dovrebbero essere fino a un massimo di 30. Grazie. Grazie, Rai. Mettiamo in votazione l'ordine del giorno. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 6, contrari 15, astenuti nessuno, non passa l'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno con il numero 3, sempre presentato dal Partito Democratico, prima firmataria era la consigliere Mari Pagani, parla il consigliere Leo. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, a quest'ordine del giorno parlo ovviamente delle partecipazioni delle rappresentanze, ve lo leggo nei tre punti principali, viste le ripetute difficoltà richieste da parte delle rappresentanze genitoriali associative che afferiscono alla gestione dei servizi educativi che più volte hanno mostrato la volontà e la competenza, atta a partecipare al percorso di costituzione della Fondazione di partecipazione comunale per la gestione dei servizi di welfare cittadino. Ribadito che esistano organismi rappresentativi dei genitori e tavoli di partecipazione dei servizi socioeducativi da tempo sul territorio di Sesto San Giovanni, preso atto che nello Statuto allegato alla proposta di deliberazione 429-2019, consegnata ai consiglieri comunali e getti di discussione in sede di terza commissione consigliare giovedì 11 aprile 2019, non si prevede una partecipazione ampia della rappresentanza delle utenze che la Fondazione ambisce a gestire. Quindi col presente ordine del giorno, allegato alla proposta delibera, relativa all'approvazione della Costituzione e Fondazione di partecipazione alla gestione dei servizi di welfare cittadino, impegnano la Giunta Comunale ad assumere l'impegno di prevedere forme di confronto e partecipazione con gli utenti, in particolare con le rappresentanze già presenti sul territorio, quali il Comitato di gestione di nivi, il Forum Genitori e il Tavolo della 104, per aprire un confronto con valore consultivo in vista della stipula dei futuri contratti di servizio tra amministrazione comunale e non alta fondazione. Ecco, io, presentato l'ordine del giorno, sono sicuro che quest'ordine del giorno verrà votato all'unanimità. Grazie Presidente. Apro, quindi passiamo alla votazione dell'ordine del giorno con la numerazione numero 3. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 6, contrari 15, astenuti nessuno, non passa all'ordine del giorno. Passiamo all'ordine del giorno numero 4, sempre del Partito Democratico, prima firmataria la consigliera Perego. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Allora, con quest'ordine del giorno, a fronte delle premesse comuni agli altri, impegniamo il Sindaco e la Giunta a utilizzare le risorse che si generano nell'ambito dei servizi educativi e, in particolare, una parte di queste risorse a utilizzarle su quella che è sempre stata, nell'ultimo anno, una grossa criticità della gestione dei servizi, ovvero le sostituzioni del personale. Tanto è vero che in quest'anno educativo nei vari nidi comunali ci si è trovati di fronte anche alla mancanza del rispetto del rapporto numerico necessario per l'accreditamento e talvolta anche per il funzionamento. Impegniamo a questo punto a utilizzare le risorse perché nei cinque nidi comunali successivi le risorse per le sostituzioni del personale in caso di malattia ci siano e le educatrici vengano sostituite. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 6, contrari? Manca un voto della consigliera. Quindi contrari 15, astenuti nessuno, non passa all'ordine. Aspetta, c'è manca la Iosa? Sì, ha detto che è. Favorevole consigliere Iosa? Contraria? Ah, perché non è arrivato. Bene. Allora, passiamo adesso alla dichiarazione di voto della delibera Costituzione, Fondazione e partecipazione per la gestione dei servizi welfare cittadini. Lista popolare per sesto, Consigliere Vino. Grazie, Presidente. Parto dal fatto che, come tutti avranno notato, ho votato in modo contrario a tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati dalle forze di opposizione. Questo perché, ovviamente, apre la mia votazione, ovviamente contraria. Ma contraria non perché non sono d'accordo su quello che sta facendo l'amministrazione, ma perché non ho avuto, a parer mio, anche dal dibattito che è emerso questa sera, da quello che ho visto, da quello che ho ascoltato, gli elementi reali e concreti per poter fare un'attenta valutazione, come avrei voluto fare. Il gruppo che rappresento è un gruppo che non si scandalizza all'esternalizzazione. L'ho fatto in passato e non avrei avuto nessun problema a votare favorevolmente anche a questa delibera. Purtroppo non ho, ripeto, avuto elementi per poter fare un'attenta analisi e ritengo che i tempi che sono serviti per arrivare a questa scelta siano stati molto stretti e una scelta di questo tipo, secondo me, meritava un'attenzione maggiore anche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti del territorio, come ha citato l'assessore nelle sue slide e nelle sue presentazioni. La cosa che mi domando, vado al concreto, perché avete i numeri, avevate deciso e da mesi che ci lavorate e mi chiedo il perché evitare un confronto. Ma un confronto, come è stato chiesto questa sera dalle persone che sono sedute qui nei banchi dell'opposizione, fondamentalmente l'han chiesto loro, l'han chiesto cittadini strumentalizzati o meno, non lo so, questo poco mi interessa, però visto che c'erano mesi di lavoro dietro, in quei mesi probabilmente si poteva ragionare e ascoltare anche idee diverse e a quel punto poi decidere, tanto ripeto, numeri li avevate, la scelta l'avevate fatta, per cui, perché no? Penso che sia stata persa un'occasione da questo punto di vista. Io onestamente ripeto, non avrei esitato anche magari a votare in modo favorevole, e quindi diverso da quello che faremo. Non ho esitato in passato a una riflessione sul CDD. All'inizio ero addirittura favorevole come gruppo all'esternalizzazione totale, quindi non al miscuglio che si voleva fare, ma a un'esternalizzazione totale, quindi non mi sarei scandalizzato. Però, ripeto, credo che si sia persa un'occasione. Si parla di partecipazione, si parla di ascolto, si parla di condivisione, si parla di tutte queste belle cose, però quando è il momento di farlo concretamente ci si perde un pochino. Poi, da imprenditore, ho bisogno di dati anche concreti, numeri, numeri alla mano, per poter fare delle valutazioni, e quei numeri non mi sembra di averli visti. Ed è, ripeto, è un vero peccato. È un vero peccato. Il mio voto, il nostro voto, è contrario. Sesto, primo posto, consigliera Di Pietro. Grazie, Presidente. Ma allora, io intanto mi associo a quanto detto adesso del consigliere Vino, mi ha preceduto, l'avrei detto anch'io. In effetti mi ha stupito sentire il consigliere Vincelli sostenere che sono mesi, abitura anni, che stanno lavorando sul problema, su questo problema, secoli addirittura, ancora prima di insediarsi in questo consiglio comunale, per poi, cioè, e per rappresentarci, quindi, una soluzione in un tempo, come dire, di un mese e mezzo, che è dal 2017 che ci state lavorando. Premesso che di questo non vi è traccia neanche dei documenti programmatici che ci avete presentato in questi due anni, se non nell'ultimo dutto che ci è stato presentato qualche settimana fa. In questi due anni nulla si diceva. E mi ricordo benissimo, ancora nel programma del sindaco che è stato presentato in quest'Aula e anche nel vostro ordine del giorno, lei allora era inserita nel cuore, nulla si diceva rispetto a questa possibilità. Se è vero che vi siete insediati e avete scoperto il vaso di Pandora. Poi, voglio dire, giusto per essere chiari, forse mi sono espressa male io prima consigliera Aiosa, io non ho detto di intervenire in una situazione emergenziale con una risposta emergenziale. Dicevo che prima di arrivare ad un stravolgimento strutturale, mettiamola così, del welfare cittadino, in una situazione emergenziale, perché voi ci state dicendo che siamo in una situazione emergenziale, poi accolgo le proprietà dell'assessore Pizzocchera, però la soluzione ponte dell'IPIS, io ancora però non ho sentito il perché no, se non per un discorso aggregato, diciamo, a un stravolgimento, comunque è un discorso educativo, come diceva prima l'assessore, scusate, sono un po' stanco. Ma soprattutto perché, ripeto, questo viene anche contro l'impegno che il sindaco ha assunto in quest'Aula. Quindi allora, quando si fanno gli ordini del giorno e si fanno propri, credo che ci sia, come dire, poi un discorso di coerenza politica, se non altro, negli impegni che si assumono. Se no, forse pensarci prima, perché quando è stato assunto quell'ordine del giorno, il problema, diciamo così, economico, era già stato ben rappresentato. Poi se vogliamo dircela tutta, comunque anche questa è una forma di esternalizzazione. Io l'ho detto, io non sono contrario al principio, però usiamo le parole e diciamo le cose come stanno. Perché se esternalizzare implica che l'oggetto della fondazione, sia l'attività che in precedenza, svolta dal lente pubblico direttamente con mezzi propri. Ora non è stato più così, perché comunque rimane un'attività di interesse pubblico, ma non è più gestita direttamente dal comune, pur col controllo analogo e via dicendo. Dopodiché, io purtroppo ribadisco, perché nelle risposte che sono state date, rimane sempre il vuoto, diciamo, dal punto di vista economico-finanziario. Consigliere Pogliadi, forse voi sapete qualcosa che noi non sappiamo. A me continua a rimanere il dubbio, la particità, perché io ancora questo piano economico-finanziario non lo vedo, i numeri non li ho, le risposte non sono state date. E quindi su questo voi ci chiedete di votare, tra virgolette, una scatola in bianco, una cambiale in bianco, perdonatemi. Lei, tra l'altro, è quello che più di tutti su questa cosa ci lavora, che più di tutti ci ha sempre rappresentato l'importanza di un piano economico-finanziario quando si fanno i progetti, se non ricordo male, ma mi sembra proprio di no. E questa sera, invece, nei fatti, un po' si dimentisce, mi perdoni. Questa è la mia valutazione, con tutta la stima che ho per voi, consiglieri, e per lei, consigliere Pogliadi. Quindi non mi soffermerò su altre cose che ho già detto nell'intervento. Continuo a dire che è stata un'occasione persa, mi associo a quello che diceva il consigliere Paolo Vino prima, soprattutto di un confronto vero e profondo con la città, e credo che si sarebbe potuto fare, visto che, appunto, sono mesi che ci state lavorando. Quindi, per tutto quello che ho detto anche prima, il voto sarà contrario. Grazie, consigliera Di Pietro. Gruppo misto, consigliere Giampaolo Vincel. Giampa Maria. Grazie, Presidente. Allora, ancora una volta, la minoranza o non sa leggere, o interpreta quando, quanto, quanto e come conviene, e come gli conviene, per destabilizzare l'opinione pubblica. Consiglierà Di Pietro. Quando si inizia chiaramente a lavorare su qualcosa, non è detto che la soluzione si trovi nell'immediato. Proprio perché è sempre stata una questione delicata, li ho posto nella mia precedente discorso, e per cui non è vero che non è stato parlato mai sulla questione agil-nido. Tant'è vero che quando abbiamo chiuso il 20 settembre c'è stato posto un problema. C'è stato, forse qualcuno non si ricorda, ma abbiamo finito un consiglio comunale dove c'erano qui delle partecipate, tutti per correre effettivamente dietro questo problema importante, sicuramente. E la Giunta, no, e da lì abbiamo parlato in più occasioni, anche come Presidente della Commissione di Lancio, sulla questione asili. Quindi, i dati, continuo a dire, e mi dispiace che anche il consigliere Dino continua a insistere sulla questione dati. Mi sembra che lui abbia finito l'ultima parte della legislatura nella precedente amministrazione, al posto della consigliera Maioso. Poi, per quanto riguarda non avete una relazione tecnico-economica di fattibilità? Non la leggete, perché non la leggete. Questa è stata redatta dalla dottoressa Orsetti, quindi ha firmato questa relazione, che ha rivestito il ruolo di ragioniere capo nella precedente amministrazione. Ma, scusate, parla di un 41% di riduzione, chiaramente, dei costi. Infatti, la nuova fondazione consente di fare una serie di economie sul personale. Lo scriviamo, non è che lo nascondiamo. Viene scritto 400.000, 402.000 e sui servizi, servizi 272.000. Ora, anche sulla questione parere in ordine alla Costituzione della Fondazione da parte del Collegio dei Divisori, chi ha detto che c'è un'espressione di parere negativo? Guardate, ma voi non sapete proprio leggere. Signori colleghi, io vi invito a leggere e non a interpretare chiaramente a vostro piacimento. L'unica cosa che dice, visto che c'è una... Sì, vi ricordo che è una dichiarazione di voto più che... Perché, se no, dopo ci allunghiamo un po' troppo. Sì, però, stiamo parlando di fatti e quindi, se io ho dentro i miei tre minuti, ok, se sono fuori... No, no, no. Ecco, perfetto. Ricordiamoci anche per gli altri... La Commissione dei Conti esprime la convinzione che la Costituzione di una fondazione di partecipazione per la gestione dei servizi di welfare cittadini da effettuare da parte del Comune di Sesso San Giovanni, quale fondatore, possa esprimere una diversa modalità di gestione dei suddetti servizi al fine di migliorare efficienza, efficacia ed economia degli stessi. Invito per le prossime volte i colleghi a leggere meglio. La nostra dichiarazione di voto è favorevole. Ringrazio l'assessore, ringrazio i colleghi di maggioranza, ringrazio chiaramente anche le persone che hanno lavorato nel retrovia per costituire questa fondazione. Grazie a lei, Consigliere Vincelli, Movimento 5 Stelle, Consigliere Di Cristo. Grazie, Presidente. Cinque minuti, eh? Grazie. Sì, cinque minuti. Dichiarazione di voto? Sì, cinque minuti. Sì. Sì, di voto? Sì. Caro Consigliere Vino, non è che è nuovo, perché è vecchio sì dell'amministrazione, ma è nuovo. Stasera ha avuto una dimostrazione, ma l'abbiamo avuta tutti in maniera lampante, sulla condivisione che intende questa maggioranza. Io sono stato zitto apposta, ma sorridevo, perché ho avuto la riprova che su dieci emendamenti, cinque ordini del giorno, ma al di là del risultato dell'essere cattati, si fosse degnato uno di voi a spiegarci come mai sia stato cattato. Almeno uno. Ma non tanto a noi, che abbiamo perso tempo a scriverli, a farli, anche sull'input di qualche cittadino, probabilmente, ma ci fosse stato uno che si fosse preso la briga di dire io voto no per questo motivo, per scelta politica, per niente. È arrivato l'ordine di scuderia, come al solito, e tutti belli allineati, soldatini, per favore, grazie, consigliere Sanato. Io l'ascolterò dopo, non so se con piacere, ma dopo. Ma l'ordine di scuderia è partito e chi si faceva vanto dell'ascolto, perché è stato detto, ma nemmeno nella scorsa campagna elettorale, io lo ripeto con forza, che ha fatto una campagna elettorale sulla scelta dell'ascolto, non si ascoltano mai i cittadini. Io posso capire la posizione di un partito, di un movimento. Io vengo da lì e faccio parte di lì, ma chi si vanta di essere un civico ci ha fatto una campagna elettorale. Quindi siete completamente affiattiti politicamente sulle posizioni del partito. Allora, l'unico merito che vi devo fare, dichiarazione di voto sulla delibera, se è gentile. Ma c'è questa la presidenza, se la faccio subito ancora tre minuti e mezzo, grazie. L'unica cosa è la fedeltà, il premio fedeltà, questa ha avuto la dimostrazione stasera la consiglia di vita, questo è il modus operandi di questa amministrazione. Non danno i dati, cioè io nel mio intervento ho detto non siamo contrari, con il movimento non siamo contrari, ho fatto gli elogi all'assessore, l'ho ripetuto, ho detto che era un progetto che se è condiviso si poteva anche, cioè se è condiviso realmente si poteva anche supportare, non si danno i dati ma scopriamo che, e non lo dico strumentalmente, bene, il consigliere Pogliari sono contento che sia un uomo per tutte le occasioni, sia per CapCore, sia per i servizi sociali, ma lo dico senza invidia, non sto scherzando, però che ci sia iniziato un lavoro dal 2017, glielo dico davvero senza invidia, le dico che a noi non c'è stato nessun tipo di confronto con noi, a meno per chiedere voi cosa ne pensate, quando io, consigliere Vincelli, quando consigliere Vincelli, lei dice di aver scoperto a settembre 2017 che i migliori generavano un disavanzo in 3 milioni e 8, ma guardate che si sapeva ancora prima, l'ho anche anticipato, sono anni che si sa questa cosa, anche quando ero in opposto, anche la consigliera Iosa lo diceva negli scorsi interventi, quindi mi fa strano che lei l'abbia scoperto nel 2017, quindi nemmeno da voi si funziona tanto bene la comunicazione, probabilmente deve essere un'abitudine, per cui il modo usoperante è questo, non si danno i dati, però poi sono convinti di avere sempre la soluzione migliore per il mondo, io non so fino a quando potrà durare questo vostro aspetto, fatelo, dove va il problema, fatelo, è una scelta vostra, però noi, noi, non ci siamo a questa cosa, noi non ci siamo, per cui facciamo opposizione, non riteniamo, non bocciamo politicamente l'idea della fondazione, però non possiamo votare a favore della fondazione e nemmeno a sederci, abbiamo posto l'articolo 70,2, perché secondo noi non ci avete, possono stare forniti, magari anche non volontariamente, ma proprio una mancanza di tempo, giustificato o meno, tutti gli elementi per approfondire, per cui noi non prenderemo parte, lei annuisce con la testa dalla serie chi se ne importa, ma è esattamente il riassunto del chi se ne importa, della vostra, della vostra atteggiamento, nei confronti e dell'opposizione e dei cittadini, è inutile che si dice che distorciamo il messaggio, il messaggio che date è esattamente questo, è esattamente questo, tutto ha una fine, grazie, noi non partecipiamo al voto. Vista di Stefano Sintroco, Atanasio Tullio. Grazie Presidente, insomma, vede consigliere di Cristo, lei in commissione aveva detto, scusa se mi prendo la responsabilità di dire che il circolo faccio io, si ricorda l'ha detto in commissione, è condivido, condivido e quindi e quando lei dice speri che è governata ancora per poco, io invece vi voglio ringraziare, voglio ringraziare a tutti voi, insomma, per l'ostruzionismo e la disinformazione che fate in giro. Grazie. Comunque oggi 18 aprile, il 19, ah sì, scusa, oggi 19 aprile, ore 1 e 42, 1 e 42, svolta epocale per la città di Sesto San Giovanni. Questa fondazione è lo strumento idoneo, caro consigliere di Cristo, per risolvere le problematiche gestionali del Comune in relazione ai servizi socioeducativi, culturali, sanitarie, eccetera. Se voi noi non ci possiamo far niente, siamo noi che governiamo, siamo la maggioranza scelte politiche, sì o no, siamo noi che governiamo. a giugno del 2017 è cambiato, giusto? La gente ci ha votato per il cambiamento, avanti tutto, andiamo avanti. Grazie, il mio voto, il nostro voto è favorevolissimo, non favorevolissimo. identità civica, consigliere Alessandra Ioso. Grazie, Presidente. Ma stasera credo che abbiamo un pochino esagerato. Allora, cosa fanno i civici all'interno della maggioranza e dove si sdraiano? Se permette, lo sappiamo noi quando ci incontriamo con le parti partitiche, quando discutiamo sulle delibere, quando discutiamo sulle scelte, perché adesso avete un po' stufato con questa storia. Allora, tutte le volte tirate fuori questa barzelletta dei civici che sono asserviti al potere dei partiti e onestamente avete veramente suffato. Perché quello che noi facciamo all'interno della maggioranza, se permette, lo sappiamo noi, le discussioni che portiamo avanti e le scelte che facciamo e come sono condivise, se permette, ce lo smazziamo tutti i giorni della nostra vita all'interno di questo ente. Quindi non accetto più che venga detta questa cosa. Se i civici votano a favore evidentemente perché hanno condiviso una scelta. Poi voi la volete vedere in un altro modo francamente sono affaracci vostri. Il consigliere Pogliaghi non è un uomo buono per tutte le ore. Il consigliere Pogliaghi è semplicemente un uomo che di mestiere fa quella roba lì e quando ci troviamo ad affrontare certi temi e certe situazioni ci aiuta a comprendere meglio per chi magari quella roba lì nella vita non lo fa ma fa altro. Quindi non è un uomo da tutte le ore che noi tiriamo fuori dal cappello quando ci pare ci piace. Vi pregherei come chiedete sempre perché è altra cosa molto simpatica che adesso in questi nuovi anni e mezzo o tutti sono infiodati o qui nessuno più parla perché voi dovete essere irrispettati vi pregherei di portare rispetto perché adesso state veramente superando i limiti. Il nostro voto è favorevole. Lega Nord consigliere Pasquinelli Grazie Presidente francamente dopo gli interventi dei miei colleghi di partito e di maggioranza dovrei ripetere più o meno le stesse cose a supporto dello Statuto e la necessità di creare una fondazione di partecipazione controllata al 100% dall'amministrazione comunale. La scelta di accelerare i tempi di discussione in commissione dello Statuto e l'approvazione della delibera in Consiglio Comunale è stata dettata dalla volontà politica di aprire tutti i sette nidi il prossimo mese di settembre. Solamente inserendo nella fondazione la gestione dei nidi boccacce tonale ciò sarà possibile. Questa decisione ritiriamo che non vada a discapito della qualità del servizio in quanto come già detto lo Statuto e la fondazione si rifà all'esperienza consolidata del modello Modena che è in vigore dal 2012 con ottimi risultati. La fondazione in prospettiva si occuperà oltre che del settore socioeducativo nidi boccacce tonale anche del settore socio-sanitario. In sostanza la fondazione sarà un grosso contenitore aperto alle varie esigenze che si dovessero presentare nel tempo a livello di Welper. Voglio rimarcare che a fronte di notizie apparse su sette notizie a firma del segretario del Partito Democratico Lombardo e della capogruppo Pergo dove si dichiara come può un ente costituito in poche settimane mantenere gli standard qualitativi con personale assunto senza concorso e pagato poco e contemporaneamente gestire i servizi per bambini disabili e anziani? Ebbene ci tengo a pregiudare che ora la fondazione gestirà solamente due asili nido pertanto parlare ora di disabili e anziani è veramente prematuro. Come al solito il PD tende ad allarmare i cittadini al solo scopo propagandistico al momento lo ribadisco la fondazione si limiterà alla gestione dei soli due nidi questa è la realtà detto questo voteremo a favore della delibera grazie silenzio silenzio consigliere Leo però lei è un bel chiamiferaio porca miseria c'è proprio il cerino titic titic dai presidente scusi io esido che il consigliere Leo chieda scusa a tutti noi io io prendo atto consigliere Leo se vuole chiedere scusa chiede scusa io quello che dovevo fare l'ho fatto e l'ho detto poi vedete chiedo scusa anche se mi sono sentito provocato dalle parole del consigliere Pasquinelli e ho reagito comunque chiedo scusa a quest'altro va bene grazie consigliere Leo forza Italia consigliere Rosa prego grazie presidente favorevole ma ci avete una verba ragazzi partito democratico consigliera perego grazie presidente ma innanzitutto volevo semplicemente specificare all'assessore e ci mi dispiace se questo quello che è passato che nessuno ha ridicolizzato nessuno c'è stata una critica un'altra critica questo esiste e deve esistere nell'esercizio della democrazia ma non c'è stata nessuna ridicolizzazione quando ci viene detto che il comune non vuole chiudere i nidi beh la battuta la chiamate ed è già stata fatta perché un nido è già stato chiuso quando ci si dice che nella visita a Modena è stato raccomandato di tenere separati i piani quello della politica quello dei genitori quello dei sindacati anche qui la battuta si chiama perché le rappresentanze sindacali non sono state per nulla convocate e per nulla coinvolte in questo percorso alla consigliera Iosa dico può essere che lei abbia questa visione di chi fa l'insegnante e di chi fa l'educatore come alla perenne ricerca di un posto nel pubblico dico anche che spesso chi lavora nel privato non ha per nulla idea che nell'ambito invece dei contratti della scuola la situazione è completamente coinvolta e che a volte il passaggio dal privato al pubblico si rende necessario a fronte di una retribuzione più alta necessario per il sostentamento della famiglia per cui non è una ricerca di una comodità o quant'altro come anche mi sembra risibile la rassicurazione che ci viene fatta di fronte alle nostre perplessità beh ma se le educatrici decideranno di partecipare a qualche concorso noi la sapremo prima bene e sapendolo prima cosa succede si impedisce loro di andare via i bambini continueranno perché lo sappiamo prima avranno la continuità didattica anch'io sorrido quando il consigliere Vincelli dice che si è scoperta la situazione appunto del rapporto costi e entrate degli asili nido e se è messo si è iniziato a ragionare su una diversa gestione degli asili nido a ottobre del 2017 sorrido perché prima appunto del disavanzo tecnico e sorrido perché ma forse allora è da due anni in cui si lavora senza rendere minimamente senza coinvolgere minimamente non dico l'opposizione ma la città che viene coinvolta e viene toccata da una delibera così importante se già su un cambiamento di gestione ci si pensava dall'ottobre 2017 consigliere Vincelli non è qua a sentire quando mi dice abbiamo scoperto appena insediati che non erano pari i costi e le entrate che c'erano molti più costi rispetto alle entrate mi viene da dire perché c'era da scoprirlo forse è insito nel concetto di servizio pubblico da ultimo di fronte al rimprovero che ci viene fatto di non leggere i documenti vorrei rassicurare che i documenti li abbiamo letti anzi proprio perché desideriamo approfondire abbiamo chiesto l'esplosione di quei dati presenti nel documento tra l'altro consigliere Fogliaghi visto che lei ha voluto citare il consigliere Piano dicendo che avrebbe avuto tutt'altro atteggiamento mi piace ricordare che il consigliere Piano nell'ultima commissione sui nidi ha proprio chiesto di avere i dati esplosi presenti nella relazione di fattibilità tecnica cosa che stiamo ancora attendendo per tutto questo oltre che per le ragioni già esposte nella relazione che abbiamo fatto prima ribadendo ancora una volta la mancata messa nelle condizioni di poter esercitare la nostra funzione noi voteremo contro Sesto nel cuore consigliere Molteni Grazie Presidente scusate prima lo scatto non è generalmente la mia latura è l'orario è l'orario è la stanchezza è la stanchezza e l'orario a proposito già prendo la palla al basso è partita qualche parolaccia prima senza che qualcuno se ne sia accorto proprio involontariamente io capisco che è l'orario e lo dico a tutti può capitare qualche volta dai però sarà mio dovere riascoltare bene attentamente la registrazione e poi eventualmente segnalarlo anche perché poi in futuro facciamo più bella figura prego non so se mi è scappato ma non penso comunque va bene allora facciamo un po' tirare insieme le idee no faccio un attimino prima la valutazione della consigliera Iosa sul discorso dei civici che è un refrende che viene sempre portato come se noi il fatto che si voti poi a favore o contrario sia solo su ordine quello che succede in maggioranza o quelle che sono le nostre tensioni le viviamo e noi lo sappiamo noi perché ci siamo di conseguenza comunque tornando a noi tutti rimarcano sempre qui che non c'è stato coinvolgimento che non c'è stata informazione che non c'è stata beh io ho avuto la fortuna e questo riguarda solo me il fatto di poter essere andato a Modena però faccio parte della terza commissione che si è riunita spesso e la commissione è vero che è per gli addetti ai lavori ma è aperta anche al pubblico perlomeno da quando la preside la consigliera Ercoleo io ho sempre stato lasciato spazio compartibilmente al tempo anche ai cittadini mi risulta adesso non so in termini numerici di incontri con le educatrici con novi adesso ecco mi suggeriscono nove incontri per cui questo aspetto portarlo come criticità mi sembra non mi sembra corretto poi è stato detto avete la ricetta in tasca per tutto no non abbiamo la macchetta magica non abbiamo la ricetta sicuramente abbiamo l'arriere di pensare e di fare il meglio di quello che possiamo sì sicuramente perché se no non faremo il nostro lavoro certo che abbiamo l'arriere di pensare di fare il meglio di quello che si possa questo è in dubbio non saremo corretti ultima cosa ultima quando si parla del dubbio sulla qualità del servizio erogato sulla validità dei programmi dei progetti questo ci è stato detto direttamente dal dall'assessore a Modena è vero che lì si parla di scuole materne è vero che lì si parla di realtà politiche diverse perché hanno una storia politica diversa di conseguenza sicuramente c'è più buona disposizione nei confronti di un soggetto di una creazione ma quella della fondazione cosa che qui invece noi abbiamo un po' più di difficoltà proprio per una storia politica diversa ma comunque dall'evalutazione dei vengono chiamati customer satisfaction ma io che vi chiamo questionari di gradimento risulta che le scuole materne gestite da fondazione hanno un indice di gradimento molto superiore a quelle gestite dal comune per cui questo bene è Modena ma noi abbiamo l'arvire di fare se non altrettanto di pareggiare tutto questo per dire che avendo seguito bene le cose e senza altrettanto il nostro voto sarà sicuramente favorevole grazie passiamo alla votazione della delibera apro la votazione chiudo la votazione favorevole favorevoli 14 contrari 6 dovrebbe esserci un voto manca una persona non vota non è uscito comunque ok non votanti quindi è approvata votiamo per la immediata eseguibilità apro la votazione chiudo la votazione silenzio in aula per favore presenti 20 favorevoli 14 contrari 6 assenuti nessuno non votanti prima bene votiamo il verbale di seduta al punto 30 approvazione dei verbali delle sedute consigliari dei giorni 24 gennaio 2019 ore 20 e 30 29 gennaio 2019 ore 20 e 30 26 marzo 2019 ore 20 27 marzo 2019 ore 20 28 marzo 2019 ore 20 apro la votazione posso intervenire allora rispetto ai verbali del 28 di marzo io non c'ero mi sono sono retti ci sono stati dei passaggi molto delicati e lesivi dell'onorabilità sicuramente personale ma anche di chi ha amministrato con me da parte del sindaco il quale in alcuni punti appunto dice che che amministrava ha usato lo strumento ha usato il comune come strumento per distribuire soldi del bilancio e che ha usato l'emergenza abitativa in modo tale da consentire di dare caso in affitto senza rispettare molti principi di legalità ora detto che questo principio di legalità che non sarebbe stato rispettato è stato detto più volte dal sindaco e non solo e io ho chiesto un accesso agli atti per capire che cosa era stato mandato alla procura della repubblica e avere contesta della corrispondenza e che mi è stato negato qualsiasi documento perché la natura stessa della richiesta non lo prevedeva però si continua come dire imperterriti a gridare a gran voce questa cosa chiedo se il sindaco intenda sfumare o non come dire cancellare questi passaggi perché è chiaro che il passaggio successivo mio sarà quello di fare una querela per diffamazione se il verbale verrà così votato come trascritto nelle parti da tutto il consiglio comunale sarà ancora molto più forte ovviamente perché avvallato dal parere di tutti i consiglieri che c'erano queste parole voglio dire avranno un peso politico e non soltanto grazie mettiamo in votazione quindi tutto il verbale di seduto compreso quello del 28 marzo no scusi io che ho fatto una domanda almeno la risposta credo che il sindaco mi dice lo tengo non lo tengo però almeno la risposta a microfono per cortesia se è un verbale si vota il verbale se avessi qualcosa da modificare lo direi grazie mettiamo quindi in votazione il verbale di seduta apro la votazione chiudo la votazione silenzio stiamo votando per cortesia silenzio possiamo per cortesia vi chiedo gentilmente mi fate gentilmente chiudere il consiglio comunale grazie adesso chiudiamo poi andate avanti il battibecco per cortesia cedere la miranda però vi prego dai e madonna santa allora prego dottoressa anche nel rispetto della dottoressa che è qui presenti oltre che dell'aula sono votanti 14 e favorevoli 14 non risultano altri votanti bene sono le 2.02 chiude il consiglio ah scusate 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 votiamo per l'immediata esibibilità calmi 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 sono tutti apro la votazione un momento per favore azzeriamo apriamo la votazione non funziona lo facciamo per l'alzata di mano apro la votazione favorevoli 14 assenuti non votanti il resto il resto sono non votanti grazie sono le 2.03 a ora a tutti voi una felice serena pasqua a voi e le vostre famiglie grazie arrivederci per l'alzata di